Buonasera a tutti. Iniziamo questa videoconferenza che è la prima conferenza per il Comune di Cornaredo, per il Consiglio Comunale. Passo subito la parola al nostro segretario, il notario Anni per l'appello. Prego, segretario, lei la parola. Buonasera, allora, Sant'Agostino Iuri. Presente. Eregalli, Carlo. Presente. Pianza, Marco. Presente. Sametti, Susanna. Presente. Airaghi, Elena. Presente. Unero, Claudia. Presente. Scriviglione, Pompilio. Presente. Buongiorno, Vicenzo Salvatore. Presente. Lucena, Silvia. Presente. Uzzo, Veronica. E' assente. Agiraghi, Renzo. Presente. Madiani, Renato. Presente. Gambini, Cristian. Presente. Tiraboschi, Renato. Presente. Verbari, Saverio. Presente. Locati, Rosalba, Antonia. Presente. Cardillo, Marco. Presente. Allora, sono presenti sedici consiglieri, assenti uno e il consigliere Urso Veronica. Prego, presidente. Grazie, segretario. e nei presenti sedici consiglieri su diciassette dichiaro aperta questa seduta di consiglio comunale. Chiedo ancora a tutti di tenere chiusi, silenziati i microfoni, esattamente come facciamo nel consiglio comunale, di utilizzarvi solamente ed esclusivamente quando si deve prendere la parola. questa videoconferenza per quanto manterrà le stesse regole di sempre quando abbiamo i consigli comunali in presenza. Per le votazioni saranno in forma palese e verranno chiamati all'appello nominalmente tutti i singoli consiglieri dal segretario che accerterà il voto e io ne proclamerò poi, la presidenza proclamerà poi l'esito della votazione. Io adesso passerei subito per le comunicazioni, la parola al nostro sindaco e poi prenderanno inizio tutti i lavori con i punti all'ordine del giorno. Mi sentite, vero? Perfetto, passo la parola al sindaco, a lei con la parola. Prego. Grazie presidente, buonasera a tutti. Credo sia opportuno, già come fatto nella conferenza dei capigruppo, aggiornare in un consesso come quello del consiglio comunale e quindi tutti i consiglieri circa la situazione che ormai da più di due mesi stiamo vivendo nel nostro comune come in tanti comuni del nostro paese, cercando di rassumere le attività che l'amministrazione comunale ha messo in campo, la situazione che anche oggi stiamo vivendo e quali sono le prospettive per il futuro, almeno per quanto ci è dato sapere ad oggi. Partiamo dai dati, sono gli ultimi che abbiamo fornito, come avrete visto forniamo i dati due volte a settimana proprio per evitare di fare un bollettino giornaliero. Ad oggi noi abbiamo 58 persone contagiate a Cornaredo, a cui si aggiungono 97 persone guarite e 12 decessi. Da ormai 10 giorni c'è stato il sorpasso del numero di persone guarite rispetto al numero di persone contagiate, ma settimanalmente abbiamo sempre più persone che vengono considerate contagiate, nel senso che come da piattaforma che utilizziamo noi amministratori, che viene popolata dai medici di base, che inseriscono anche le persone sintomatiche, noi abbiamo tra le persone contagiate coloro che hanno il tampone positivo, che hanno fatto quindi un tampone positivo, ma anche coloro che per i medici di base hanno dei sintomi che sono riconducibili al Covid. Questo perché, come sapete, non per tutti al momento, prima della segnalazione del medico di base, viene fatto il tampone. Il tampone ad oggi viene fatto soltanto alle persone che sono in ospedale, ovviamente con i sintomi da Covid, o le persone che vengono segnalate dai medici di base come sintomatici lievi, altrimenti ad oggi all'interno del sistema sanitario regionale non può essere, non viene fatto il tampone. Quindi questo dato tiene conto sia delle persone positive, sia delle persone sintomatiche segnalate dai medici privati. Le persone, le invece di 97 persone guarite che vi ho segnalato, sono persone che hanno fatto il tampone ed è risultato negativo. Quindi non sono le persone come accade sicuramente a livello nazionale, non solo a livello regionale, sono uscite dall'ospedale. Queste sono persone che hanno il tampone negativo. Come vengono trattati i dati? Vi ho detto che gli amministratori accedono a una piattaforma dove vengono segnalate tutte le persone sintomatiche da parte dei medici di base, tutte le persone con tampone positivo da parte di ATS e da entrambi, quindi sia dei medici di base che da parte di ATS, le persone che sono costrette alla quarantena, quindi che sono entrate in contatto con persone che si sono rivelate positive. Per quanto una volta che il nome di una persona compare sulla piattaforma, la stessa viene chiamata dal sindaco per capire quali sono le condizioni in cui si trova, dopodiché anche la polizia locale effetta una chiamata dove ricorda quali sono le indicazioni pratiche relative alla quarantena che deve essere seguita. E fornisce un numero di telefono a cui la persona può rivolgersi, sia essa una persona con sintomi da Covid o con tampone positivo, sia essa una persona in quarantena per le esigenze del caso. Perché ci vengono riferiti i nominativi? Purtroppo non per essere a conoscenza legata della situazione, ma perché l'amministrazione comunale attraverso le forze dell'ordine deve svolgere un monitoraggio, ossia deve verificare che la persona stia effettivamente al domicilio e non vada in giro. Adesso questa situazione è molto più gestibile, è molto più semplice, ma fino a poche settimane fa il numero dei contagi nel nostro comune era vicino a 100, quindi oggi siamo poco più della metà. Per quanto riguarda invece un dato che credo possa essere interessante è quello dei decessi negli ultimi anni. Nei primi quattro mesi dell'anno, non abbiamo ancora al dato di maggio, i decessi a Cornaredo sono stati 61 nel 2017, 61 nel 2018, 65 nel 2019 e 82 nel 2020. Questo dà un'indicazione ovviamente non statistica nel confronto anno su anno, ma ci dice che se noi ad oggi abbiamo un numero di decessi nei primi quattro mesi sicuramente legati a Covid di 11 persone, perché l'ultimo decesso c'è stato nel mese di maggio, abbiamo un aumento sulla media degli ultimi tre anni che è di 19, dipende dal raccontamento, 19-20 decessi in più, di cui solo 11 sono giustificati da Covid. Per quanto riguarda la macchina comunale, all'inizio di questa emergenza ovviamente abbiamo provveduto alla riorganizzazione completa di tutti gli uffici e tutela della sicurezza sul posto di lavoro da parte dei dipendenti, quindi con il mantenimento delle sole attività essenziali e abbiamo messo in campo dell'attività invece a supporto delle fasce più fragili, sia con dipendenti comunali, in questo caso con i servizi sociali, sia con un grande numero di volontari che si sono resi disponibili ad aiutare chi era in difficoltà. Quindi per quanto riguarda la macchina comunale si è fatto ricorso allo smart working e anche a ferie arretrate, non ferie relative ovviamente al 2020 e quindi diciamo che gli uffici che sono rimasti in servizio in maniera full time sono la polizia locale, ovviamente che aveva i compiti ben specifici di controllo ma anche di supporto alle persone con contagio o con sintomi potenzialmente riconducibili a covid, i servizi sociali in particolare una volta poi che si è avviato anche l'iniziativa dei buoni spesa e l'anagrafe per quanto riguarda i servizi essenziali, ma anche in questo caso si è proceduto con la rotazione dei dipendenti, quindi a parte i due uffici che ho citato inizialmente nessun altro ufficio era a pieno regime con tutti gli effettivi in servizio presso gli uffici. Per quanto riguarda le attività di supporto vado velocemente a ricordare quelle che sono state messe in campo dalla nostra comunità perché sono davvero tante, ci sta la consegna dei dispositivi di sicurezza l'abbiamo fatto sia con due consegni di mascherine, ci sarà la terza questo weekend grazie alla protezione civile della Croce Verde Nord-Ovest, mascherine che sono arrivate principalmente da Regione Lombardia e anche attraverso qualche donazione di aziende del territorio. La prima tranche è stata consegnata a tutte le persone che avevano all'interno del nucleo familiare persone con più di 65 anni, la seconda invece è avvenuta con la distribuzione di due mascherine a famiglia, la terza questo weekend avverrà consegnando un numero uguale di mascherine per ogni famiglia uguale al componente del nucleo familiare. Questa volta visto che i numeri sono molto alti e visto che ormai si può uscire di casa non vige più il mantra restate a casa, la consegna avverrà in quattro punti di distribuzione sparsi nel comune sia nella giornata di sabato che nella giornata di domenica. Ovviamente chi non può recarsi in questi due giorni potrà riceverle poi segnalando la propria posizione a una mail, alla mail della COC. Abbiamo messo anche, visto che dicevamo prima, si sono mobilitate anche tante realtà del volontariato ma anche tante aziende che si sono rese disponibili a fornire i dispositivi di sicurezza, chi bene alimentare che abbiamo gestito in alcuni casi attraverso Caritas ad esempio, quindi abbiamo fatto anche da collegamento tra i donatori e le associazioni solidali che hanno provveduto poi a distribuire i beni alimentari a chi era in situazioni di difficoltà coordinandosi con i servizi sociali. Abbiamo dato del supporto agli over 65 tramite la spesa a domicilio, abbiamo avviato la raccolta fondi Cornaredo per Cornaredo, anzi ricordo che quando ho partecipato alla conferenza dei capigruppo ho chiesto, sono a rinnovare questa richiesta a tutte le forze politiche di inviare per poi confrontarci una segnalazione di come i fondi che ammontano a circa 35 mila euro, poco meno, debbano essere spesi, visto che abbiamo detto che queste risorse verranno spese confrontandoci con tutte le forze politiche. L'iniziativa restiamo insieme segnalando tutti le attività commerciali disponibili a effettuare consegne a domicilio e questo è stato un servizio molto gradito da parte degli utenti ma che ha permesso alle attività, in particolare quelle alimentari, che sono rimaste aperte, la possibilità di ampliare la propria clientela che preferiva ovviamente farsi portare la spesa a domicilio piuttosto che rimanere in coda nei supermercati. Abbiamo messo in campo poi degli strumenti di comunicazione istituzionale, come vi dicevo prima, con dei comunicati stampa che escono due volte a settimana. Con l'inizio della fase 2, ormai da due settimane, si è modificata anche tutta questa organizzazione, sia per quanto riguarda le attività di supporto che per quanto riguarda l'organizzazione della macchina comunale. Mentre continuano i controlli da parte delle forze dell'ordine, anche se ovviamente sono modificati perché nella fase 1 i controlli venivano fatti molto spesso su chi frequentava i parchi, visto che i parchi erano chiusi, ma anche su chi si spostava all'interno del comune, visto che c'erano tre ragioni esclusive per cui era possibile muoversi. Adesso invece gli spostamenti sono pressoché quasi tutti consentiti e quindi il controllo si rivolge principalmente al divieto di fare assembramenti e anche all'obbligo di utilizzo dei dispositivi di sicurezza. Anche gli uffici sono riaperti, ricevono tutti su appuntamento perché siamo comunque ancora in una fase di emergenza con la gestione degli ingressi, la misurazione della temperatura in ingresso a tutti i dipendenti comunali e di concerto con l'RSU e con il medico del lavoro, l'RSPP, scusate, è stato firmato un protocollo per garantire ai dipendenti comunali la massima sicurezza sul luogo di lavoro. Per quanto riguarda le attività economiche, avrete visto che ormai quasi tutte, non tutte però, sono riaperte con delle prescrizioni molto strette in alcuni casi da seguire. Settimana scorsa sono stati riaperti i mercati che in un primo momento erano stati riaperti soltanto con le bancarelle di generi alimentari. Anche domani a Cornaredo vi sarà il mercato con delle piccole modifiche, soprattutto sulla debilità interna rispetto allo scorso venerdì per agevolare e per creare meno disagi possibili agli utenti. Però è ancora necessario nella nostra regione monitorare gli ingressi, quindi contingentare gli accessi e perimetrare tutta l'area nel mercato. Mentre a San Pietro viene molto facile visto l'area di ubicazione del mercato, a Cornaredo è molto più complesso, sia perché intorno al mercato ci sono le attività commerciali, ci sono le residenze e perché i punti di accesso sono sicuramente maggiori rispetto a quelli di San Pietro. I parchi gioco, le aree gioco sono ancora chiuse perché da protocollo è necessario effettuare almeno una pulizia quotidiana ed è necessario vigilare costantemente perché vengano evitati assembramenti. Quindi insieme anche con altri comuni ovviamente stiamo ragionando su quali possono essere però le modalità per controllare che non vengano effettuati assembramenti all'interno dell'area gioco e le modalità anche con cui pulire quotidianamente almeno le stesse. A me sfugge perché un'area gioco è un gioco per un bambino debba essere ad esempio pulito una volta al giorno e non al termine di un singolo utilizzo se viene fatto per ragioni di sicurezza e di igiene. Però questo non mi soffermo su questo punto. Vedremo se ci saranno delle modifiche nelle prossime settimane stiamo ragionando sull'opportunità di aprire comunque anche in questa fase con queste prescrizioni. Ovviamente sono ferme tutte le attività culturali e anche quelle sportive. Stiamo ragionando insieme a alcune associazioni se quando sarà concesso fare assembramenti con le distanze consentite anche all'interno dell'area pubblico come dei parchi sarà possibile mettere a disposizione degli spazi per svolgere attività sportiva all'area aperta visto che è sicuramente più sicuro che farlo in spazi chiusi. Stiamo immaginando anche il ridisegno di alcuni servizi non soltanto per quanto riguarda l'area apertura delle scuole a settembre ma molto più imminente anche per ad esempio i centri estivi. Non vi nascondo che la valutazione oltre che in merito a non tanto la fattibilità ma le modalità di svolgimento del servizio riguarda anche la parte economica perché se è vero che da un lato ci saranno dei piccoli risparmi perché non sarà possibile fare le gite così come non è previsto il trasporto dei ragazzi dall'altro la riduzione del rapporto educatore la riduzione del rapporto educatore ai ragazzi avrà ovviamente dei costi dei costi maggiori nonostante il numero dei ragazzi sarà inferiore questo per garantire le distanze e che vengano a svolte le attività in piena sicurezza. Io credo che poi questo è un ragionamento che travalica il quotidiano inesistente la ripartenza vera e effettiva si giocherà su come verrà gestito il trasporto pubblico locale che adesso è stato ridisegnato ma ovviamente conta ancora di numeri più bassi rispetto alla normalità e anche i servizi educativi ascoltavo prima il telegiornale dove si davano delle bozze di protocolli all'interno delle scuole e anche su quello con i dirigenti scolastici con i comprensivi ci stiamo muovendo per capire ad esempio se sarà possibile utilizzare spazi aggiuntivi rispetto a quelli delle scuole proprio perché anche prima si diceva che nelle aule andrà garantita la distanza minima di un metro e visti i numeri di alcune classi ovviamente non sempre non sempre è possibile quindi verificheremo una volta che si è riuscito il protocollo come muoverci anche su questo punto così come altri due punti che riguardano sempre i servizi educativi che sono i nidi comunali che ad oggi non possono essere riaperti ma mancano ancora dei protocolli per la riapertura e sul trasporto scolastico stesso che ovviamente difficilmente possiamo immaginare così come lo abbiamo sempre impostato quindi con i ragazzi che stanno uno a fianco all'altro all'interno del pullman scolastico abbiamo visto adesso siamo in attesa di capire se dal 3 giugno ci saranno delle modifiche in particolare la parte più forse sentita non so se è importante riguarda gli spostamenti fuori fuori regione ma come dire gli organismi superiori al nostro hanno detto di aspettare proprio i dati di questi giorni perché in base a quello giustamente si faranno le opportune valutazioni sia per quanto riguarda gli spostamenti extraterrestri regionali sia per quanto riguarda l'apertura di altre attività o l'allentamento di alcuni vincoli che oggi sono ancora presenti io non aggiungo altro ma ovviamente se ci sono domande rispondo molto volentieri grazie sindaco e passerei la parola ai consiglieri per chi volesse intervenire chi vuole può prenotarsi in chat o aprire il microfono e chiedere la parola se invece non ci sono interventi o domande da parte di posso chiedere senza non ho scritto Rosalba Rosalba Locati volevo chiedere al sindaco no siccome ho letto che alcuni comuni circa 2035 comuni sono stati scelti non so con quali criteri per il discorso della e dalla croce rossa telefonano per sapere chi è disponibile perché sono state fatte delle scelte su base istat delle persone che devono fare per cui le persone possono anche rifiutarsi diciamo non è detto che accettino volevo sapere ho letto che anche Cornaredo fa parte di questo volevo sapere qualcosa ecco Cornaredo fa parte di questi comuni 2035 comuni io l'ho letto sui giocatori grazie amministrazione comunale in questo senso come diceva giustamente la consigliera Locati si tratta di una scelta che è stata fatta dal punto di vista statistico da parte di istat non sappiamo né quante persone né chi è stato visto che è partita questo lunedì questa iniziativa o sarà contattato ma come detto non c'è obbligo da parte della persona che viene contattata dalla croce rossa di rispondere positivamente quindi di mettersi a disposizione per fare prima il test serologico e poi il tampone grazie sindaco grazie consigliera Locati ci sono altre domande da parte nostra stiamo valutando la possibilità di convenzionarci con dei laboratori del territorio proprio perché con una delibera regionale di due settimane fa è stato concesso anche ai privati di poter svolgere i test serologici con l'obbligo quando il paziente quando l'utente risulta positivo al test di fare il tampone stiamo facendo delle valutazioni sull'opportunità ma anche sul merito di una possibile convenzione grazie sindaco se non ci sono altre domande vedo che nessuno si è prenotato in chat possiamo passare posso fare posso chi è Berbari prego prego consigliere Berbari allora buonasera a tutti buonasera presidente vorrei fare una riflessione e chiedere al sindaco questo ho assistito un po' delle varie iniziative che sono state fatte per l'emergenza del Covid le chiedo come mai non è stato coinvolto un po' la minoranza in questo magari potevamo dare dei suggerimenti potevamo fare qualcosa un aiuto io per esempio sono imbattuto in quel lavoro che ha fatto su Facebook l'assessore Perazzoli infatti ho contribuito ha dato anche una mano a produrre del materiale quindi questo lo può testimoniare anche l'assessore per cui sarebbe stata una cosa anche bella no collaborare e quindi portare magari delle idee dei suggerimenti di altre iniziative perché è vero avete fatto una serie di cose questo bisogna riconoscerci mancheremo però da parte nostra magari potevamo anche suggerire qualche altra cosa grazie grazie a lei consigliere io quando mando gli aggiornamenti bisettimanali li mando prima di pubblicarli anche sui social giustamente anche a tutti i cati gruppo quindi da parte mia c'è stata tutta la disponibilità ad aggiornare e anche essere sollecitato da parte di tutti i cati gruppo di maggioranza e di minoranza sia sulle iniziative da mettere in campo sia sulle iniziative che abbiamo messo in campo sia sulle eventuali iniziative da mettere in campo quindi da parte nostra come avrà visto anche sull'iniziativa restiamo restiamo insieme come dire è stata una sorta di valanga nel senso che abbiamo cominciato rispondendo a chi si è reso disponibile alla situazione che ci hanno detto siamo disponibili a fare qualcosa di decicosa e quindi era aperto a tutti consigliere comuni ma anche semplici cittadini di Cornaredo associazioni di Cornaredo quindi non c'è stata nessuna nessuna preclusione ma eravamo assolutamente disponibili sia ad aggiornare tutti i consiglieri comunali tutti i capi gruppo ovviamente non tutti i consiglieri comunali ad accogliere qualsiasi richiesta fosse venuta grazie sindaco grazie consigliere verbarri altri interventi no mi pare di no se siete d'accordo passiamo alla trattazione dell'ordine del giorno ok allora al primo punto dell'ordine dell'ordine del giorno abbiamo presa d'atto della costituzione del gruppo consigliare misto e modifica della composizione delle commissioni consigliari questo a seguito della comunicazione da parte del consigliere Cardillo del 10 aprile 2020 che è stata assunta al protocollo dell'ente il 14 aprile 2020 protocollo 8238 con la quale rendeva noto che dalla medesima data non avrebbe più fatto parte del gruppo consigliare Movimento 5 Stelle ma avrebbe aderito al gruppo misto questo secondo quanto previsto dagli articoli del nostro regolamento comunale delle commissioni consigliari l'articoli 7,6 e 8 e appunto dei nostri regolamenti se il consigliere Cardillo vuole prendere la parola la cedo a lui altrimenti se ci sono interventi se no poi passiamo alla votazione consigliere Cardillo prego ha lei la parola grazie presidente buonasera a tutti sinceramente come io come altri colleghi del milanese che siamo abbiamo abbandonato tra virgolette lasciato nel momento 5 stelle l'unica cosa vorrei soltanto leggere brevemente diciamo il manifesto con la quale abbiamo dato notizie quindi sinceramente non possiamo più non potevamo più identificarci con un simbolo e con un gruppo che ha snaturato completamente i principi fondanti e fondativi che per la quale io in questo momento mi ritrovo all'interno delle istituzioni questo non vuol dire che il percorso per me e altri il mio gruppo sia finito porteremo comunque le istanze dei cittadini all'interno in questo caso del consiglio comunale di Cornaredo anche perché reputo il fatto che l'anno scorso chi ha votato sottoscritto l'abbia fatto più per la persona e per il manifesto politico quindi il programma che abbiamo portato più che per il simbolo che poi tristemente è andato scemando in questi mesi facendosi a soggiogare purtroppo dalla vecchia politica e quindi dalle forze che sono anche componenti della maggioranza alcuni tornarete detto questo ripeto non continuerò tranquillamente come ho sempre fatto a portare le istanze dei cittadini dove ci sarà richiesta e a collaborare con l'amministrazione e tutte le forze politiche quando per l'appunto come ha detto anche il sindaco ci saranno gli spazi politici per farlo direi che ho detto tutto grazie consigliere Cardillo la ringrazio molto chiedo anche ai consiglieri qualora volessero intervenire in merito a questo punto grazie presidente grazie a lei consigliere Cardillo chiedo la parola consigliere Meregami prego a lei consigliere Meregami sì grazie buonasera a tutti volevo fare gli auguri a Cardillo al consigliere Cardillo perché in effetti la scelta che sta facendo di operare in una realtà non facile in solitari non è una scelta semplice evidentemente è motivata fortemente motivata da motivi personali e ideologici e quindi io rispetto pienamente questa sua scelta e auguro a lui un buon lavoro e la collaborazione che c'è sempre stata all'interno di questo consiglio comunale quindi auguri di buon lavoro grazie consigliere Meregami ci sono altri interventi vorrei vorrei soltanto ringraziare il consigliere Meregami da quale ho grande stima e finito approfitto anch'io consigliere Cardillo per rinnovare la mia stima di sempre e questo lei lo sa benissimo e credo di interpretare comunque il pensiero di tutti i presenti se non ci sono altri interventi direi che possiamo passare alla votazione è vero che è una presa d'atto ma è anche vero che vanno votate le modifiche apportate alle commissioni consigliari per cui passiamo al voto e saranno due voti perché c'è anche quello per l'immediata esecutività allora adesso io passerò la parola al segretario generale al segretario dottor Notarianni leggo quello che appare per cui lui con appello nominale chiamerà ognuno di noi e noi esprimeremo il nostro voto favorevole o contrario o di astensione o astenuto e ovviamente faremo due passaggi proprio perché ci sarà l'immediata esecutività passo la parola al segretario dottor Notarianni a lei prego sì allora seguiamo lo stesso ordine delle presenze Sant'Agostino favorevole mi regali Carlo favorevole Pianza Pianza ok grazie Dametti favorevole Airagi Elena favorevole Funero favorevole Crivellone favorevole Buongiorno Buongiorno sentito sì sì compiglio non ho sentito buongiorno Vincenzo sei favorevole non ci sento perché è andato via tutto noi lo vediamo io prima mi è messo scollegato tutto buongiorno consigliere buongiorno ci sente favorevole ok Lisena favorevole Pulso Veronica assente Airagi Renzo favorevole Taviani Renato sì favorevole sì lo si sente sì sì l'ho sentito si è sentito favorevole sì Gambini Tiraboschi Renato sì sì era lui Tiraboschi Renato favorevole verba risaverio favorevole 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 cardillo e io mi astengo aspetti che pura pura giustamente non è che posso votarmi ok sì io sento ho detto favorevole mi sentite sì buongiorno adesso sì sì buongiorno adesso sì adesso è chiaro ok allora i favorevoli presidente verifichi anche lei i favorevoli sono 15 15 perché abbiamo abbiamo un assenuto e un assente perfetto adesso passiamo all'immediata passiamo all'immediata esecutività perfetto benissimo se tutti siete d'accordo per velocizzare visto che una registrazione video e audio rimane quindi anche il video magari con un'alzata di mano si fa prima vogliamo provare con l'alzata di mano ecco proviamo con l'alzata di mano così controlliamo tutti insieme per l'immediata esecutività Sant'Agostino per i favorevoli sì Meregalli ok favorevole Brianza Manina ok Dametti favorevole ok Airaghi Elena ok Munero la Manina c'è ok Crivellone Pompilio Crivellone o alzi la mano o dici di sì vabbè non c'è Crivellone dove sei? Crivellone ah ok buongiorno va bene sì ok Lisena ok ok Airaghi Renzo ok Laviani Renato ok Gambini Cristian ok Tiraboschi Renato Tiraboschi non si vede no eccolo lì ok ci senti? ok Berbari Saverio ok abbiamo già alzato la mano Locati ok ok Rosalba la Locati si è bloccata consigliere Locati favorevole io mi vedo con la mano ok non so Cardillo mi comunico che abbiamo abbiamo guadagnato mezzo minuto allora il totale è Cardillo non l'ho chiamata si astiene stengo ora stesso esito 15 favorevole all'immediata esecutività perché abbiamo sempre un assente e un astenuto perfetto prego presidente allora per 15 voti favorevoli sia per quanto riguarda la votazione semplice sia per l'immediata esecutività sul primo punto all'ordine del giorno 15 voti favorevoli e un astenuto per cui è approvato questo va a modificare appunto le commissioni consigliari passiamo ora al secondo punto all'ordine del giorno approvazione rendiconto dell'esercizio finanziario 2019 e passo la parola all'assessore Vono prego assessore Vono buonasera a tutti questo appunto questo punto all'ordine del giorno riguarda l'approvazione del risultato di amministrazione del conto consuntivo essenzialmente del 2019 e del conto economico e stato patrimoniale adesso collegato innanzitutto partiamo da dire che anche in questo esercizio nel 2019 abbiamo evidenziato un risultato di amministrazione con un trend negativo rispetto ai due esercizi precedenti dovuti anche dal fatto che nel corso del 2019 c'è stata un'applicazione massiccia di avanzi degli anni dell'anno precedente e in particolare l'esito del risultato del 2019 ammonta 3 milioni e 658 mila euro questo risultato questo risultato come ben sappiamo è determinato sia dalla gestione di competenza sia dalla gestione dei residui e proprio in occasione della redazione del conto consuntivo si fa anche una revisione ulteriore dei residui e si vanno a contabilizzare di pennare tutto ciò che si ritiene non essere più esigibile o tutte quelle che sono le nuove voci che sono emerse e che facevano riferimento appunto a gestione degli anni precedenti da tutte queste attività e quindi dalla competenza e dai residui quel 3 milioni e 658 mila euro che sembra una cifra molto consistente in realtà è in larga parte determinata dagli accantonamenti e quindi per l'esattezza 2 milioni e 462 mila euro circa appunto di accantonamenti da vincoli di legge per quasi 896 mila euro e da invece un avanzo che a questo punto è disponibile per 232 mila euro e un destinato sulla parte per investimenti per circa 68 mila euro se vogliamo andare a vedere nel dettaglio un po' più nel dettaglio queste macro voci vediamo che la parte di avanzo accantonato quei 2 milioni e 462 sono in questo caso in gran parte determinati dagli accantonamenti per il fondo svalutazione crediti già da solo questo fondo vale 1 milione e 961 mila euro altra parte importante dell'accantonato è il fondo contenzioso per 473 mila euro avremo un modo di ritornare anche su questo argomento ci sono poi altri accantonamenti relativi alle franchigie assicurative per poco più di 2 mila euro e rimborsi per spese procedure e rispossione equativa per circa 23 mila euro e poi un avanzo accantonato per indemnità di fine mandato del sindaco per 1600 euro abbiamo poi dicevamo la parte vincolata 895 quasi 896 mila euro in questa voce e in questo avanzo che appunto è figlio di vincoli di disposizioni di legge si hanno tutti gli accantonamenti relativi alla codice della strada in particolare disposizione di legge codice della strada per la segnaletica per le apprezzature per la sicurezza poi quelli che sono gli accantonamenti per opere di culto gli accantonamenti obbligatori per l'abbattimento delle barriere architettoniche servizio rischiuti per interventi regionali di sostegno alla locazione innovazione attrezzature informatiche fondo innovazione cook manutenzione e urbanizzazioni primarie e secondarie e aree verdi e forestali abbiamo poi dicevamo un avanzo vincolato anche da trasferimenti anche in questo caso abbiamo dei contributi a sostegno per la locazione e la morosità incolpevole per circa 19 mila euro e il contributo per la riduzione di incidentalità stradale per 25 mila euro ci sono poi avanzi vincolati dall'ente che riguardano le iniziative del commercio per circa 15 mila euro e avanzi relativi alla chiesa vecchia per poco più di 3 mila euro dicevamo poi di avanzi destinati a investimenti per 68 mila euro e quel che resta alla fine è un avanzo disponibile di 232 mila euro perché questa disanima comunque per rappresentare che alla fine ciò che risulta è un importo molto contenuto rispetto a quello che è la movimentazione complessiva nel corso di un anno in termini di entrate e uscite e che quindi le previsioni che sono state fatte e in sede di redazione dei bilanci di previsione ma anche i vari adeguamenti avvenuti in corso d'anno hanno fatto sì che le attività seguissero quello che era la predisposizione e la previsione o la programmazione di quanto si era appunto determinato e deciso questo bilancio consuntivo è caratterizzato dicevamo da accantonamenti a fondi rischi abbastanza consistenti e in particolare citavo il fondo rischi contenzioso per 473 mila euro essenzialmente questa cifra è data e determinata da accantonamenti in parte già accantonati sugli stanziamenti di competenza del bilancio dell'esercizio 2019 e in parte accantonati proprio in sede di rendiconto 2019 nella sua parte più grande per 440 mila euro e appunto si tratta della gara d'ambito per la la gestione della rete del gas e è un modo per fronteggiare proprio il rischio che abbiamo in questo momento che portiamo per una causa intentata nei confronti dell'attuale gestore concessionario che ha diminuito il pagamento del canone pur non essendoci una come dire giustificazione normativa in tal senso e quindi al fine di tutelare lente abbiamo accantonato le relative somme per quei canoni che rischiano di non essere incassati nei tempi corretti il conto il congiuntivo del 19 è caratterizzato anche dalla non effettuazione e dalla non richiesta di anticipazione di tassa dico questo perché invece poi vedremo che questo sarà uno dei temi che dovremo invece affrontare probabilmente nei prossimi mesi ma avremo modo di entrare un po' più nello specifico nel dettaglio trattando gli ulteriori punti andando avanti sugli avvenimenti e su ciò che è accaduto nel corso del 2019 dobbiamo ricordare che abbiamo provveduto ad effettuare delle estinzioni anticipate di prestiti per un totale di circa 228 mila euro e ciò ha portato ad un risparmio annuo nelle quote di ammortamento per circa 29 mila euro anche su questo punto torneremo a parlarne nei successivi argomenti posti all'ordine del giorno di questa seduta di consiglio comunale e riaffronteremo la questione dei mutui altra caratteristica del consuntivo 2019 sono i contributi per permessi di costruire l'andamento di questi oneri dei permessi di costruire nel triennio 17 19 è stato un andamento un trend in positivo e soprattutto sul 2019 l'importo alla fine contabilizzato è stato maggiore rispetto a quelle che erano le previsioni originali parliamo di 1.221.000 euro così come ci eravamo impegnati a fare nel corso del quinquennio precedente di amministrazione anche nel 2019 non sono stati applicati oneri a copertura di parte della spesa corrente come sappiamo i bilanci del 2020 nel triennio 20 21 e 22 perché abbiamo approvato il previsionale di questo triennio invece viene interessato dall'utilizzo di oneri per la copertura appunto della parte corrente per motivi che in fase di redazione del bilancio di previsione abbiamo ampiamente raccontato motivato e commentato e che adesso nella fase di emergenza covid fatto sì che si aprissero degli scenari ulteriori e che quindi si dovesse ulteriormente riflettere anche su questo punto nel corso del 2019 abbiamo assistito invece per quanto riguarda alle sanzioni per violazione a codice della strada ad un trend negativo questo trend per ovvie ragioni subisce delle ulteriori modifiche nel corso del 2020 ma lo vedremo nel progetto che cosa caratterizza anche i bilanci ovviamente degli enti locali ciò che li caratterizza anche il rapporto che si ha con le proprie partecipate nel nostro caso noi parliamo delle realtà di AXA delle farmacie comunali di Afinom di Esco di Capolding di CEV di Afol della Contrazione Comunitaria Nord Milano del CSBN o di SEPOP essenzialmente abbiamo continuiamo a tenere sotto controllo le partecipate e a decidere in sede di revisione proprio delle società stesse e poi di verifica periodica del piano di razionalizzazione di queste società a monitorare attentamente i risultati delle stesse e a smettere o a seguire le vicende di quelle realtà che sono in liquidazione o in cessazione comunque per quanto riguarda i risultati delle realtà a noi più vicine i risultati sono stati molto positivi nel 18 e comunque molto positivi nel 19 soprattutto per quanto riguarda farmacia comunale nel corso del 19 dicevo in premessa che è stato applicato un avanzo di amministrazione consistente per circa 1 milione e 400 mila euro e ciò ha consentito di effettuare tutta una serie di operazioni dalla manutenzione straordinaria delle strade consolidamento della piscina le manutenzioni straordinarie delle scuole a fondi destinati al bilancio partecipativo devoluzione di importi per le opere di culto acquisto di arredi e attrezzature e poi servizi di segnaletica rifinanziamento del fondo crediti di esigibilità già solo questa voce accubato sull'intera applicazione di questo avanzo per quasi 525 mila euro dicevamo sono stati estinti anticipatamente dei prestiti anche grazie a questi fondi e altre piccole spese nel corso del 2019 dal punto di vista degli investimenti sono state impegnate attivate risorse per circa 4 milioni e 400 mila euro molto è stato fatto in termini di piano di riqualificazione strade solo su questa voce parliamo di circa 973 mila euro manutenzione straordinaria degli impianti sportivi per circa 723 mila euro e manutenzione straordinaria del patrimonio e degli alloggi per 253 e altri impegni reimputati e mandati a fondo pluriennale vincolato che quindi vedranno la loro esplicitazione anche negli esercizi futuri il il late motive ce lo raccontiamo oramai da diversi da anni è nell'ambito di dell'attività consueta e normale di procedere col piano di razionalizzazione delle spese in particolare l'attenzione si concentra e si monitorano i beni strumentali le dotazioni informatiche tutto ciò che è il parco di telefonia tutto il mondo delle macchine da ufficio e dei mezzi motorizzati avrete potuto leggere nelle varie relazioni che nel corso degli anni degli esercizi le tabelle ad esempio in alcuni casi come per i mezzi appunto di proprietà dell'ente riportano quelli che erano i consuntivi a partire dal 2014 sia in termini di manutenzione che di utilizzo di carburanti e come avrete potuto vedere il risultato è stato decisamente interessante dal punto di vista della razionalizzazione delle spese analoga attività che è stata portata avanti per quanto riguarda le macchine di ufficio quindi le dotazioni informatiche e via discorrendo nel 19 i servizi che erano già attivi come la consulenza notarile gratuita allo sportello legale sono stati mantenuti e a questi si è aggiunta anche a inizio del 2019 la collaborazione con la stazione dei carabinieri di Cornaredo frutto di un accordo sperimentale con il comando legione Lombardia che ha visto la presenza dei militari presso la sala riunione del municipio una volta alla settimana allo scopo di incontrare i cittadini che ne facessero richiesta appunto e che conoscevano questo questo servizio nel corso del sempre 2019 noi abbiamo continuato come vi dicevo prima per seguire il mantenimento invece tornando ai dati economici dati finanziari il mantenimento del pareggio di bilancio senza l'utilizzo di risorse di carattere straordinario e abbiamo perseguito anche l'ulteriore abbattimento dell'indicatore di tempestività dei pagamenti questo indicatore ha registrato un valore pari a un numero negativo a meno 7 e pertanto se ne deduce che è stato possibile accorciare di molto i termini di pagamento e addirittura in alcuni casi procedere agli stessi anche prima della scadenza informazione interessante è che il debito scaduto effettivo dell'ente alla data del 31-12-2019 era pari a zero per quanto riguarda la riscossione coattiva che come ricorderete era un altro dei punti e degli obiettivi da perseguire le attività sono andate avanti secondo appunto gli obiettivi programmati e in particolare Polizia Locale ha consegnato al concessionario le ingiunzioni delle sanzioni a codice della strada relative al primo e al secondo quadrimestre del 2018 e questo vuol dire che Polizia Locale è stata in grado di anticipare in maniera molto significativa i tempi rispetto agli anni precedenti e nella seconda parte dell'anno è stata rispettata la tempistica programmata ovvero il 30 settembre per la consegna al concessionario delle ingiunzioni delle altre entrate dell'anno 2018 non riscosse spontaneamente quindi nel tempo tutti gli uffici hanno assicurato una tempistica e un ritmo differente e hanno recuperato buona parte di quello che era l'attività degli anni precedenti quindi ora insomma si segue questo scadenzamento in maniera regolare e precisa è stato anche l'anno in cui dopo l'attivazione nel 2018 dell'inserimento del nuovo sistema di pagamento Pago Pia relativamente alla Tosap a partire da settembre 2019 si è provveduto all'attivazione all'estensione di questo sistema di pagamento anche per i servizi scolastici quindi parliamo di refezione asilo nido trasporto pre-post scuola assistenza mensa assistenza mensa è proseguita anche nel corso dell'anno passato tutta quell'attività di bonifica e di precalcolo delle cartelle uniche e attualmente siamo intorno alle 7300 posizioni che sono state cristallizzate e che sono disponibili come sappiamo è un'attività che richiede una manutenzione continua tant'è che nel corso del secondo semestre l'ufficio ha bonificato circa 815 posizioni aggiuntive e poi ha comunque abbattuto circa 960 posizioni perché erano assoggettate unicamente alla Tasi come sapete la Tasi è stata soppressa a decorrere dal 2020 e quindi anche queste lavorazioni dovevano essere portate avanti prosegue l'attività con la società incaricata di effettuare le verifiche e gli accertamenti e nel corso del 2019 sono iniziate anche tutte quelle attività di verifica lato lato Tari e anche alcune attività collegate all'antiriciclaggio alla normativa antiriciclaggio per quanto riguarda il il mondo del lavoro avrete visto che all'interno della relazione è stato riportato un monitoraggio un report da parte di AFOL che riguarda tutta l'attività del 2019 e in particolare l'attività riferita allo sportello ecco diciamo che poi tutti i colleghi potranno arricchire questo racconto se lo riterranno necessario con alcune attività caratteristiche delle proprie deleghe rimanendo anzi ritornando diciamo facendo un'altra volta un balzo indietro e parlando di rispetto di accantonamenti ovviamente nel corso del 2019 sono stati effettuati tutti gli accantonamenti obbligatori per quanto riguarda il fondo di riserva e il fondo di riserva di cassa e il fondo credito di esigibilità e gli altri fondi rischi li abbiamo che cosa quale punto di attenzione in termini proprio finanziari di nuovo e come già ha capitato nel passato i servizi a domanda individuale che hanno registrato nel 2019 un grado di copertura del 65 27 per cento su questi su questo grado di tasso di copertura e sui appunto servizi a domanda individuale viene sempre posto l'accento sulla necessità di apportare sempre un'attenzione elevata al fine di migliorare di volta in volta questo tasso dicevamo che il bilancio e il costruttivo del 2019 si compone ovviamente anche del conto economico e dello stato patrimoniale cosa vinciamo dal conto economico del 2019 innanzitutto si rileva una forte perdita per circa 1.900.000 euro che è in controtendenza rispetto ai risultati degli anni precedenti dove però anche già nel corso del 2018 diciamo che alcuni segnali forti in termini di contabilità economica erano stati rilevati ma per tutta una serie di operazioni di carattere straordinario e di altre tematiche che espliciterò meglio a brevissimo essenzialmente quella che era la perdita iniziale è stata praticamente azzerata che cosa ha caratterizzato il 2019 innanzitutto il fatto che i proventi straordinari per esempio registrati nel 2018 che hanno comportato l'iscrizione a conto economico di plus valenze per vendita di aree come ad esempio via D'Amelio via Disolfa e per 660 mila euro questa cifra nel corso del 2019 non c'è ovviamente e di conseguenza questa è una delle prime macro differenze tra gli ultimi due esercizi il passaggio poi diretto a patrimonio netto dei proventi da permessi di costruire e delle variazioni positive del valore del patrimonio fanno sì che il patrimonio netto delle partecipate fanno sì che anche questa peculiarità della redazione del del conto economico faccia divergere i valori rispetto ad una contabilità finanziaria che come abbiamo appena finito di vedere porta invece a tutt'altro risultato seconda causa importante dal punto di vista numerico e dei valori è la voce accantonamenti dove nel 2019 è stato accantonato come fondo svalutazione crediti un importo pari a 561 mila euro abbiamo poco fa detto che nel 2018 l'accantonamento relativo appunto al fondo svalutazione ha fatto sì che per come è stato applicato l'avanzo tale accantonamento sia stato annullato quindi nel 2018 non ha assolutamente influito su quello che era il fondo economico e quindi su quel risultato finale terzo elemento riguarda l'accantonamento al fondo rischi fondo rischi è quello di cui dicevamo prima quindi la decisione di accantonare una cifra di 473 mila euro in relazione al contenzioso in atto sull'importo del periodo transitorio ovvero nell'attesa di aggiudicazione della gara d'ambito del canon per la concessione del servizio di distribuzione della rete dei gas anche questa voce è una voce nuova è una voce che rileviamo appunto nel corso del del 19 in maniera così preponderante tra gli oneri straordinari nella gestione del 19 c'è stata anche la necessità di rimborsare dei proventi da permessi di costruire per circa 180 mila euro nell'anno precedente il rimborso di un'analoga voce è ammontata a 45 mila euro quindi diciamo che in realtà gli eventi che hanno caratterizzato i due esercizi sono eventi molto diversi e in più c'è tutto il tema appunto della contabilizzazione che vi dicevo e dei principi contabili che fanno sì che debbano essere seguite determinate regole e che non sono proprio identiche neppure ai bilanci privatistici che cosa possiamo fare pro futuro pro futuro si rende assolutamente necessaria una revisione degli ammortamenti perché in tutto questo schema di conto economico gli ammortamenti hanno un peso molto rilevante nel 2019 gli accantonamenti a questa voce le iscrizioni a bilancio a questa voce sono ammontati a 2 milioni e 100 mila euro quindi è giunto diciamo il momento anche di rivedere quello che è tutto il patrimonio dell'ente e determinare se vi sia la necessità di effettuare delle revisioni dei valori intanto del patrimonio e delle collegate quote di ammortamento in commissione il funzionario ha anticipato che ci si sta muovendo per comunque avere la consulenza di studi esperti nella redazione di bilanci dal punto di vista economico c'è stato nel tempo un affinamento ma diciamo che c'è necessità di avere comunque un supporto per una puntuale verifica e per una redazione molto più accurata ultimissima cosa che volevo sottolineare per quanto riguarda appunto il consultivo del 2019 era esprimere i ringraziamenti anche nei confronti dei precedenti amministratori assessori perché il 19 è frutto anche di ciò che è stato programmato e deciso dalla precedente giunta e quindi un ringraziamento sicuramente va dato per i risultati che sono stati ottenuti anche agli assessori Meregagli ai Radi e Cisterio e qui mi fermo per il momento grazie assessore Bono passerei la parola ai consiglieri per i loro interventi credo che nessuno si è prenotato nella chat chi vuol prendere la parola chiedo la parola volevo dire no scusate una cosa volevo solo dire una cosa io non riesco più ad attivare la fotocamera cioè non prende più non so cosa dire anche a me prima prova a scollegarti a ricollegarti se riesci però sparisce tutto provo a rispegnere il telefono a ricollegarmi a questo punto che devo fare ok mi sembrava che il consigliere Meregagli avesse chiesto la parola sì ho chiesto la parola per un breve intervento chiaramente la relazione dell'assessore buona è una relazione complessa come d'altra parte sono complessi i problemi che affronta un'amministrazione oggi direi che grazie appunto all'esposizione sua e anche del dottor Midolo sono riuscito appunto a seguire tutto ciò che è stato effettuato voglio sottolineare due cose la prima riguarda i termini di pagamento che mi sembra che siano stati particolarmente curati da questa amministrazione e noi sappiamo quanto sono importanti per l'economia locale se pensiamo che lo Stato ha se non sbaglio un mancato pagamento di pari 12 miliardi vuol dire che avere attenzione ai pagamenti è fondamentale a qualunque livello l'altra cosa era una domanda e riguarda l'avanzo allora siamo partiti da un avanzo di 3 miliardi e 6 giusto e siamo arrivati ad un avanzo di 232 mila euro non mi è chiaro se i 68 mila euro che sono stati trasferiti sulle opere pubbliche sono all'interno di 232 oppure oppure no l'altra cosa vi ringrazio Mary per i complimenti non è comune un atteggiamento di questo genere quindi grazie Mary ma mi complimento anche con quello che hai fatto e stai facendo per il nostro comune rispondo alla domanda il 68 sono in aggiunta cioè 232 arrivano dal disponibile e di parte corrente essenzialmente mentre il il 68 è destinato ad investimenti ma che ha tutte le caratteristiche della possibilità di essere utilizzato grazie assessore grazie consigliere Mere Galli altri interventi Rosalba volevi intervenire ma sono sono stata disturbata da questa situazione che non riesco a riprendere la linea cioè con il discorso della videocamera è partita improvvisamente se vuoi fare l'intervento quello sì non mi vedete più perché non riesco a riattivare la cosa eventualmente ci riprovi dopo intanto intervieni pure no era il discorso appunto che volevo dire sul conto economico che come diceva Midolo durante la commissione soffre per una serie di conseguenze con le nuove della nuova contabilità e quanto che bisogna decisamente fare qualcosa anche per il futuro come diceva adesso l'assessore per quanto riguarda una consulenza per poter fare qualcosa di migliorare la situazione perché altrimenti tutte le volte continuano poi volevo chiedere all'assessore nella nella parte economia residuale dove si parlava per un milione sette nove sette e diceva che è dovuta per un milione due sei uno al famoso discorso di via Vanzago che c'è stato il mancato perfezionamento perché i soldi non sono non sono ancora arrivati non so se arriveranno e poi si parlava anche altre somme sulla spesa in contro capitale accertamento ultimi giorni dell'anno di rilevanti proventi da permessi di costruire del Lidl non volevo sapere qualcosa di questo non mi ricordo la la faccenda ma sì l'abbiamo leggermente toccato nell'ambito della commissione era una pratica in sospeso cioè erano oneri che dovevano essere versati da Lidl e questo versamento si è avuto alla fine dell'anno se non ricordo male solo quello erano circa 300 300 mila euro ho capito che sono arrivati alla fine dell'anno per cui non si ok grazie sono stata un po' disturbata dal mio problema qui che non riesco a risolvere grazie consigliere Locati grazie io non so d'accordo possiamo passare io presidente consigliere Cardillo prego vorrei chiedere del discorso del conto economico o meglio vorrei capire più che altro una cosa in più nel senso che ne sono consapevole che il conto economico per un ente pubblico vale quanto come sempre bello a briscola sicuramente primo anno che il comune di Cornaredo è negativo come ha detto anche il midolo di un milione e novecento mila euro ma quello che mi ha fatto un po' più specie non è tanto il fatto che sia negativo perché ripeto il conto economico può andare a venire per un'azienda privata ma per quanto concerne le parole del dottor Milo nel senso che e cito negli anni passati abbiamo chiuso la situazione grazie a proventi straordinari che ci permettevano di chiudere sempre con un piccolo utile e poi aggiunge altre cose del tipo e fare esempio dei 660 mila euro che sono arrivati per la vendita di via damello di altre due aree questo riferito all'anno prima che ha permesso di chiudere con un conto positivo di 148 mila euro sostanzialmente il midolo in commissione ha detto che noi abbiamo chiuso i conti economici a virgolette passatemi il termine per botte di culo cioè per proventi straordinari che entravano all'interno dell'ente ora mi sembra un attimino una cosa un pochettino allegorica nel senso come si fa a dire una citazione del genere come si fa a pensare che un ente vada avanti perché ha delle entrate straordinarie quindi riesce a portare il conto economico sempre in positivo tenendo conto ripeto che noi potremmo anche avere 100 milioni di perdita sul conto economico però mi fa specie ripeto le parole di Migoro stessa cosa anche per quanto riguarda lo stato patrimoniale nel senso e anche qua cito due frasi di Migoro che lui non si prende responsabilità né lui né gli uffici a fare lo stato patrimoniale ma darà a una società con tu terzi di fare questo compito ora in una situazione di ristrettezze come ci troviamo in questo momento a causa coronavirus e mancanza di certezze dal governo centrale voglio dire spendere soldi per un lavoro che dovrebbe fare diciamo che dovrebbero fare gli uffici sentissi dire in commissione che non si prendono la responsabilità insomma mi sembra un attimino anche questa cosa qui è un attimino un po' fuori luogo nel senso se non è una cosa urgente sappiamo benissimo che il conto economico non è una cosa così preoccupante però ripeto dare addirittura spendere altri soldi pubblici a un ente terzo per fare questo lavoro mi sembra fuori fuori luogo poi dopo di che invece avevo una domanda per quanto riguardava l'indicatore di tempestività dei vagamenti anno 2019 da quale non so se magari l'assessore lo sa però al limite poi se magari se vuole prendere un appunto e rispondere anche in maniera informale era una mia curiosità più che alta perché nella tabella che è stata inviata insieme a bilancio negli indicatori c'è un importo veramente risorio di 8000 euro che superava i 90 giorni del ricevimento della fattura allora la mia domanda era come mai un importo così basso necessita un pagamento così dilazionato quando in realtà poi e questo bisogna fare un applauso all'ente la maggior parte dei pagamenti arrivano tutti entro i 60 giorni quindi su questo bisogna fare penso sicuramente un applauso all'amministrazione però non cambiano ormai un importo così basso forse al di là dei 90 e poi l'ultima domanda è stato messo l'acquisto di 57000 euro per due automezzi o un automezzo cioè un automezzo per la protezione civile e uno per i disabili oppure è un automezzo che vale per entrambe le situazioni perché viene specificato piccato magari mi sono perso qualcosa basta grazie grazie consigliere cardillo passo la parola all'assessore all'assessore Vono prego allora vado in ordine i risultati del del conto economico anche degli anni precedenti non è proprio corretto dire che si siano chiusi per delle botte di fortuna perché si sono chiusi in positivo perché si sono manifestati certi eventi però sappiamo che quello che conta fortissimamente nell'amministrare un ente locale è la contabilità finanziaria per cui non c'è ombra di dubbio che venga speso un centesimo se e solo se quel centesimo esiste ed è sui conti è un'entrata certa del comune per cui diciamo che la fortuna tra virgolette nel poter chiudere la parte di conto economico grazie alle entrate straordinarie sì sulla carta ma questo non vuol dire che laddove come nel caso del 2019 non ci siano stati gli stessi eventi e le stesse possibilità straordinarie questo abbia inficiato i risultati della parte finanziaria tant'è che abbiamo visto che noi stiamo ragionando anche su degli avanzi di amministrazione e qui mi riaggancio alla seconda questione sollevata dal consigliere Cardillo ovvero alla necessità di farsi supportare non è tanto questione credo di assumersi la responsabilità quella frase lì è una frase dal mio punto di vista che va interpretata in senso lato ovvero laddove non esiste il know-how sufficiente per poter redigere certi documenti e avendo sempre marciato la contabilità di un ente locale dal punto di vista finanziario il fatto di aver introdotto un altro elemento che ribadisco non segue neppure i medesimi principi delle società private quindi ha delle sue peculiarità delle sue specificità e legato a questo c'è anche tutta una valorizzazione di un patrimonio che è di decenni può essere che le assunzioni fatte da un ufficio che ha sempre operato in una maniera differente invece su questo fronte possa essere lacunoso e l'ammissione di dire il know-how non è sufficiente per essere certi al 100% che ciò che è stato messo in campo negli ultimi anni e che come vi dicevo mano a mano si è affinato nel tempo nonostante ciò si senta l'esigenza di farsi supportare io credo che sia un un atto di come dire estrema responsabilità invece e non di non volersela assumere la responsabilità perché non c'è neppure la presunzione di sapere tutto laddove appunto quella quel sapere non è ancora al 100% acquisito da parte di quegli uffici per cui credo che invece su questo fronte noi dovremmo andare avanti e dovremmo invece fare quelle attività che sono state anticipate in commissione sui 8000 maggiori di 90 giorni ho preso l'appunto ma presumo che ci fosse un qualche problema legato alle attività che sono state fatturate perché se no non ci sarebbe motivo però lo andiamo assolutamente a vedere e poi diamo risposta e oddio non mi ricordo che cosa mi aveva chiesto come ultima cosa sì avevo chiesto se avevo visto il bag di acquisto gli automezzi gli automezzi due sì è più di uno adesso sindaco se qualcuno mi dà una mano per ricordare sicuramente non è un mezzo ecco grazie grazie assessore grazie consigliere Cardillo altri interventi mi ha chiesto la parola il consigliere Gambini se è pronto gli passo la parola Cristian prego grazie presidente buonasera a tutti voteremo ovviamente contrariamente a questa proposta di delibera di bilancio consultivo ricordo solamente alcune cose è il bilancio relativo all'anno 2019 che ha visto l'amministrazione uscente trionfare alle elezioni con oltre il 60% dei voti quindi è sinonimo che i lavori svolti dall'amministrazione sono stati apprezzati dai cittadini di Cornaredo credo che il bilancio del comune di Cornaredo per il futuro debba tener conto di alcune cose in particolare dell'elevato a montare dell'indebitamento che è un'eredità gravosa del passato e cercare di gestire al meglio quello che è il non utilizzo degli oneri di urbanizzazione nella parte corrente è stata una cosa positiva non averlo fatto nel 2019 mi auguro da cittadino di Cornaredo quale sono che anche per i prossimi anni questa cosa venga mantenuta non focalizzerei l'attenzione su il conto economico in quanto credo che un ente pubblico non debba andare a prendere in considerazione la differenza fra ricavi e costi ma cercare di dare erogare il maggior numero di servizi possibili ai cittadini di Cornaredo senza gravare in maniera importante sulla richiesta di tassazione cercare di elargire anche quelli che sono i servizi e domanda individuale garantendo probabilmente una minor copertura possibile del servizio cercando di trovare quell'equità che ci deve essere tra le differenze classi sociali del paese detto questo da parte nostra monitoreremo sicuramente in maniera dettagliata a quello che verrà fatto da questa amministrazione nel corso dell'anno corrente e nel corso dei futuri esercizi cercando di fare delle proposte concrete e serie per il bene della nostra Cornaredo grazie grazie a lei consigliere Gambini posso presidente certo prego consigliere Labiani grazie presidente e buonasera a tutti io credo invece che il conto economico contrariamente a quello che ha detto il consigliere Gambini benché abbia effettivamente un significato diverso in un ente pubblico rispetto a una società privata a un privato evidenziando i componenti appunto positivi e negativi della gestione abbia la sua importanza perché sta a dimostrare se l'ente ha gestito quella diligenza e credenza del buon padre di famiglia e direi che in questo caso non c'è stato le parole che ha usato l'assessore in una relazione nedo atto o completa sono quanto contenuti a toni antitetiche rispetto a quelle manifestate dal funzionario innanzitutto apprezzo che anche l'assessore condivida il suggerimento del funzionario di rivolgersi a un ente esterno con una differenza però che non è una questione di mancanza di know-how come ha detto l'assessore io uso richiamo e riporto le parole del funzionario il quale ha detto che suggerisce di intervenire attraverso un approfondimento della parte relativa alla valutazione della componente patrimoniale e degli ammortamenti che sicuramente sono stati oggetto di errori e di valutazioni non corrette qui non è una mancanza di competenza di know-how è questione di errori che sono stati fatti e la gravità della circostanza risiede sempre in quello che ha detto il funzionario cioè che vi aveva avvisato lui ha detto in commissione che nei due tre anni precedenti ma anche in sede di commissione consigliare aveva avvisato che il conto economico sarebbe stato negativo per questa gestione e che effettivamente come diceva il consigliere Cardillo è stato leggermente al di sopra dello zero negli anni precedenti per queste sopravvenienze attive ma lui ha anche ricordato questa è la parte che più mi preoccupa che in base ai dati strutturali in suo possesso in possesso di uffici quindi sicuramente in possesso di questa amministrazione la perdita si assesterà anche per gli anni futuri per circa un milione di euro sempre come conto economico perdita che diventerà molto più alta e grave se si verificheranno eventi particolarmente negativi e quest'anno direi che sintomatica questa circostanza o non favorevoli come quelli avuti nel 2019 rispetto al 2018 quindi volevo correggere le affermazioni dell'assessore con particolare riferimento alle tematiche che ho appena avanzato grazie ovviamente anche il mio è un voto negativo all'approvazione del bilancio come su ultima grazie a lei consigliere Labiani ci sono altri interventi mi pare di no anche sulla chat non ne vedo altre per cui se non ci sono altri interventi direi che possiamo passare alla votazione siete d'accordo? direi di sì bene a questo punto allora passerei la parola ancora al nostro segretario e pongo in votazione il secondo punto all'ordine del giorno approvazione rendiconto dell'esercizio finanziario 2019 passo la parola al segretario per la raccolta delle espressioni di voto che anche in questo caso ci sarà l'immediata esecutività benissimo allora Sant'Agostino favorevole Meregalli favorevole Brianza favorevole Zametti favorevole Airaghi Elena favorevole Munero Claudia favorevole Crivellone Pompilio favorevole buongiorno favorevole Lisena Silvia favorevole Airaghi Renzo favorevole Mariani Renato il contrario Gambini Cristian contrario Tireboschi Renato contrario Sperma di Contrario Locati Rosalba Antonia io sono contraria Cardillo Marco Contrario allora l'esito è 3 6 9 10 favorevole 3 6 contrari e 1 assente adesso ok bisogna passare all'immediata esecutività perfetto quindi Sant'Agostino ok Sant'Agostino si Mere Galli ha detto favorevole accendi l'audio brianza si favorevole ok brianza favorevole favorevole la metti favorevole favorevole buonero claudia favorevole rivellone pompilio favorevole buongiorno favorevole lisena silvia favorevole ai raghi renzo favorevole 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 flaviani renato devi accendere il microfono non va dice che non va a me non va la welcome è contrario comunque però non va scusate ogni tanto ho dei cali di collegamento sì ovviamente sono contrari scusate grazie ok gambini contrario perfetto tiraboschi contrario perfetto verbari io ha detto contrario locati contrario contraria cardillo contrario contrario si è attrezzato con un cartello molto bene l'esito è anche qui dieci favorevoli e sei contrari per l'immediata esecutività perfetto bene allora con dieci voti favorevoli e sei contrari sia per il voto ordinario che per l'immediata esecutività il secondo punto all'ordine del giorno è approvato e a questo passiamo al successivo punto all'ordine del giorno che è una comunicazione e non richiederà espressione di voto il terzo punto comunicazione di prelevamenti effettuati dal fondo di riserva deliberazione giunta comunale numero 30 dell'11 marzo 2020 e deliberazione giunta comunale numero 40 del 23 marzo 2020 e ripasso la parola all'assessore Evono prego ossessore si tratta di diversi prelievi del fondo di riserva nella prima deliberazione si fa riferimento a 5.000 euro in sale all'11 marzo per acquisti di beni alimentari spese per l'acquisto di beni di consumo a persone anziane e fragili in caso di emergenza mentre con delibera di giunta del 23 marzo si è proceduto al prelievo per 27.565 euro in merito a necessità per far fronte a spese per materiale di pulizia spese di sanificazione accostivari di consumo attrezzature informatiche manutenzione straordinaria del patrimonio che si lega qui il cancello della chiesa vecchia spese per servizi socioassistenziali presso il melograno e spese volontari del servizio civile in particolare per le spese attrezzature informatiche si tratta di pc portatili che sono stati acquistati per lo smart working e comunque per delle attività che dovessero rendersi poi necessarie anche nei prossimi mesi grazie appunto a strutture informali infrastrutture informatiche ampliate e poi per quanto riguarda la sanificazione in particolare si faceva riferimento in quei giorni alla necessità di sanificare un appartamento comunale e all'ipotesi che ci potesse essere bisogno e necessità anche per altri appartamenti appunto del patrimonio comunale grazie assessore Bono ci sono domande in questo caso interventi ci sono richieste di intervento per cui passiamo al successivo punto il punto numero 4 ratifica deliberazioni giunta comunale numero 46 del 2020 numero 50 2020 e numero 52 del 2020 aventi ad oggetto variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 ed aggiornamento del documento unico di programmazione dopo 2020-2022 ripasso la parola all'assessore Bono prego assessore in questo in questo caso sono moltissime di queste necessità di queste variazioni riguardano ovviamente l'emergenza covid-19 e in particolare faccio riferimento a quella che è una delle cifre più grandi contenute nelle variazioni richiamate e che riguarda i buoni alimentari abbiamo ricevuto un contributo statale di circa 109 mila euro e abbiamo sommato a questo importo anche una quota del contributo ricevuto da Cap Holding e delle risorse comunali da Cap Holding in questo caso 13.300 euro dei 76 mila complessivi ricevuti appunto a titolo di contributo a contrasto dell'emergenza covid-19 e 24 mila euro appunto di risorse comunali quindi una sacca di risorse per i buoni alimentari per un totale di 146 mila euro abbiamo poi grazie a queste variazioni elevato la spesa sempre per gli acquisti alimentari di beni di consumo a 20 mila euro abbiamo potuto far fronte alle richieste di acquisto di tute guanti mascherine e altri materiali di protezione individuale per 18 mila euro materiali igienizzanti per 2 mila abbiamo ricevuto un contributo statale di 25 mila euro per la sanificazione dei locali istituzionali e sono stati fatti poi fatti un'integrazione nuovamente per quanto riguarda i servizi legati al melograno è stata effettuata la variazione per i contributi regionali per le politiche abitative abbiamo contabilizzato l'indennità di ordine pubblico un contributo statale di 20 mila euro a favore degli agenti di polizia locale e in questa variazione è stato introdotto anche una variazione per spese legali per 5 mila euro e il collaudi per la rete di illuminazione che è rappresente per 26 mila euro dove l'importo appunto lo troviamo in entrate e in uscita e il significato di questa variazione sta nel fatto che il gestore eroga questa somma e poi noi interichiamo un professionista affinché appunto svolga l'attività in costone grazie assessore buono ci sono domande su questo punto no non ci sono domande interventi per cui poniamo in votazione il quarto punto all'ordine del giorno ratifica deliberazioni giunta comunale 46 e 50 e 52 del 2020 aventi ad oggetto variazione al bilancio di previsione 2020-2022 aggiornamento unico di programmazione edu 2020-2022 passo la parola al segretario prego segretario per la richiesta di voto di esplosione bene Sant'Agostino favorevole Mere Galli Carlo sì favorevole ok Brianza favorevole Rametti favorevole Funero favorevole no c'è prima Iraghi Elena Iraghi esatto favorevole ok livellone Pompiglio favorevole buongiorno Vincenzo Salvatore favorevole Lisena Silvia favorevole urso stente Iraghi Renzo favorevole Rabiano Renato Contrario Gambini Cristian Contrario Caposchi Renato Contrario Berbari Saverio Contrario Locati Rosalba Contrario Perdillo Marco Contrario L'allestito è dieci favorevoli sei contrari Grazie Silvettario Dò risolverso del voto per dieci voti favorevoli e sei voti contrari il quarto punto all'ordine del giorno è approvato e passiamo così al successivo punto il quinto adesione a proposta di rinegoziazione di mutui presso la Cassa Depositi e Prestiti circolare numero 1300 del 23 aprile 2020 e ripasso la parola all'assessore Bono prego assessore sì con con questa richiesta di approvazione al consiglio comunale della rinegoziazione dei mutui noi cogliamo un'opportunità per il nostro ente abbiamo raccontato quelle che sono state già alcune delle difficoltà nel corso del 19 e conosciamo quelle che sono le particolarità le criticità legate ai bilanci del triennale a tutto ciò si va ad aggiungere appunto il periodo peculiare che vedrà diverse conseguenze dal punto di vista delle entrate e delle spese della riorganizzazione dei servizi e quant'altro quindi c'è stata questa proposta che abbiamo valutato e abbiamo visionato e verificato e che fa sì che nel corso dei prossimi dieci anni il bilancio del comune di Cornaredo possa avere degli effetti positivi da questa rinegoziazione rinegoziazione che dal punto di vista del costo finanziario prevede un'equivalenza della stessa rapportando appunto quelli che sono i piani di ammortamento attuali con quelli che saranno i piani di ammortamento successivi e futuri post appunto rinegoziazione noi dobbiamo tener presente appunto tutta quella che è la costruzione dei nostri bilanci e le peculiarità degli stessi e tener conto che con molta probabilità anche nel prossimo anno e addirittura forse quest'anno dal punto di vista delle entrate potremo subire delle diminuzioni forti e faccio riferimento soprattutto all'addizionale comunale all'IRPEF faccio riferimento al codice alle sanzioni a codice della strada e su 2020 per esempio al recupero dell'evasione poiché come sapete in questi mesi tale attività è stata momentaneamente sospesa o mi spiego meglio non è stata sospesa l'attività di back office ma sicuramente sospesa l'attività di notifica degli accertamenti e di richiesta dei pagamenti stessi questa operazione fa sì come vi dicevo che a fronte di un allungamento fino al 2043 mentre in precedenza l'ultimo mutuo stadeva a fine 2035 si abbia un abbassamento del tasso di interesse e si abbia appunto quel vantaggio sui primi dieci anni per poi invece avere delle rate ovviamente delle quote di ammortamento da corrispondere negli anni successivi fino arrivare al 2043 mi permetto di segnalare che nei dieci anni diciamo in cui si avrà la possibilità di godere dei benefici di questa operazione ci si possa muovere su direttrici di questo tipo ovvero cercare laddove le risorse verranno rese disponibili ci fossero delle risorse aggiuntive disponibili mettere in atto quello che avevamo già previsto nella previsione nel bilancio pluriennale ovvero l'estinzione anticipata di mutui così come mi auguro che quanto contenuto nella legge di bilancio del 2020 in termini di rinegoziazione con garanzia da parte dello Stato quindi una acquisizione dei mutui e dell'indebitamento degli enti locali da parte dello Stato e una rivisitazione attraverso l'applicazione di tassi di interesse decisamente più contenuti possa essere un'altra delle direttrici da seguire così come la questione delle penali che attualmente è la parte che ci penalizza di più nel momento in cui si decide per un'estinzione anticipata un argomento questo sul quale il governo o comunque delle leggi dello Stato parlamentari possano in qualche maniera andare incontro alle esigenze degli enti locali e abbassare questo differenziale che fa sì che più delle volte non sia conveniente l'estinzione anticipata proprio perché il costo che si sostiene va a pareggiare totalmente quello che è il beneficio che viene appunto registrato attraverso questa operazione è anche possibile lo vedremo dopo con la quarta variazione al bilancio sganciare parte degli oneri di urbanizzazione che erano stati come vi dicevo prima appostati sulla parte corrente e invece vengono per una buona fetta sfilati dall'equilibrio appunto di parte corrente e rimessi e ricollocati nella parte investimenti per il momento mi fermerei qua grazie sessore Bono passo la parola ai consiglieri per i loro interventi chi vuole intervenire per primo posso presidente prego prego consigliere la viale grazie se mi sentite grazie buonasera ancora ho sentito le parole dell'assessore parla di opportunità che non si poteva non cogliere io credo che in voce del mondo reale si debba parlare di indebitamento di forte indebitamento delle future generazioni nel mondo reale si parla secondo me di un voler far cassa nel breve periodo si paga di meno per gli anni più vicini per un fattore di sconto inferiore rispetto alle rate che scaderanno più avanti e che si avvicinano al 2043 l'operazione prevede tassi di interesse sui muti che variano se non ricordo male dalle parole del funzionario tra il 310 e il 430 quindi vuol dire che dopo l'operazione di negoziazione ci troveremo con dei muti che costeranno in modo rilevante tra il 310 e il 430 un tasso alto rilevante se si considera che oggi nel 2020 il costo del denaro è praticamente a zero una pessima operazione dal mio punto di vista che pagheranno le future generazioni grazie ovviamente il mio punto è contrario a questa operazione grazie consigliere Laviani mi chiede la parola il consigliere Gambini prego consigliere Gambini grazie presidente anche da parte nostra esprimiamo contrarietà personalmente ritengo che lo strumento dei muti sia l'ultimo a cui l'amministrazione deve fare appello per cercare di far quadrare i conti del proprio bilancio prima penso che bisogna dedicarsi a cercare le risorse altrove il comune di Cornaredo è purtroppo fortemente indebitato e la cosa che fa specie è che questi mutui in passato sono stati accesi per le fognature e per le piantumazioni per cui probabilmente questa cosa deriva anche da una cattiva gestione del bilancio stesso concordo pienamente quanto detto dal collega Renato Laviani e ritengo un'operazione totalmente sbagliata quella della rinegociazione dei mutui apprezzo invece moltissimo il cambio di idea di questa amministrazione che in passato invece era contraria all'estinzione anticipata dei mutui grazie grazie a lei consigliere Gambini altri interventi posso sindaco prego consigliere ai raghi prego siccome me la chiedeva la parola anche il sindaco ok consigliere ai raghi prego sì nel senso che io capisco e posso anche da un punto di vista generale essere d'accordo con la logica che i mutui vanno estinti e non vanno non vanno prolungati il problema vero è che si fa comunque conto con quello che è la realtà che è una realtà mi sembra che la stessa minoranza l'opposizione lo sosteneva che è una situazione per cui attraverso ciò che ci sta accadendo con questa epidemia la questione dei bilanci di tutti i comuni sono sicuramente bilanci molto messi male e che hanno bisogno di trovare altri altri finanziamenti altre situazioni dove andare a recuperare appunto la possibilità di finanziare i propri servizi è pur vero che il comune di Conaredo è estremamente indebitato non è così vero che l'indebitamento è fatto sulle sulle affognature perché in quel caso lì oltretutto non è più a nostro carico ma è a carico del CAP e quindi non è così vero è vero che abbiamo 7 milioni e mezzo di mutui però è anche vero che con i 7 milioni e mezzo di mutui che arrivano da molto lontano perché ci sono mutui che arrivano dal 79 dall'83 dall'85 ci sono i mutui fatti da 6-7 se non di più amministrazioni comunali ma sono mutui che sono stati utilizzati per dare alla comunità e non solo la comunità che c'è oggi ma anche quella futura degli investimenti immobiliari delle attività che rimarranno ci sono investimenti sull'ex filanda ci sono gli investimenti sullo sport per cui il palazzetto ci sono gli investimenti sulle piste ciclabili ci sono gli investimenti sulle costruzioni delle residenze protette nel grano c'è investimenti anche sul cimitero quindi ci sono investimenti che non sono appunto cose che non rimangono che non possono essere utilizzati dalle future generazioni anzi saranno anche utilizzate le future il problema vero è di mantenerle efficienti e oggi la questione fondamentale è che abbiamo una situazione per cui è problematica rispetto alla possibilità anche di gestire l'esistente cioè il nostro problema oggi perché se qualcuno ha altre idee perché è vero qualcuno sosteneva bisognava cercarla su altri libri su altre pali gli investimenti io non credo che sia così semplice non so se vi rendete conto di cosa sta succedendo in Europa e non solo in Italia rispetto agli investimenti alla trattativa che è in essere a livello europeo quindi è chiaro che si va a cercare dove i finanziamenti esistono questa questione della riconversizzazione dei mutui è una delle possibilità tenete conto che questa amministrazione l'amministrazione precedente due volte è stata avvicinata per lavorare sui mutui per cercare di trovare soluzioni ha sempre detto di no perché non c'era nessun tipo di convenienza oggi la convenienza in realtà appare c'è certo non è la convenienza che salverà e che potrà e che come è chiaro sono d'accordo con il consigliere Laviani cioè avere un tasso del 3,10 4,10 quando sostanzialmente abbiamo la situazione di inflazione di questa natura e con i tassi molto bassi non è sicuramente una cosa chissà che può gridare al miracolo però oggi abbiamo un tasso dal 5,8% per cui in realtà comunque andiamo a ridurlo e tenete conto che questa riduzione significa che noi in questi primi dieci anni avremo la possibilità di avere una riduzione sul nostro bilanci di 2,7 mila euro quei 2,7 mila euro potrebbero essere utilizzati per garantire i servizi ai nostri cittadini perché l'anno prossimo il problema reale sarà come garantire i servizi ai nostri cittadini servizi che dovranno essere diversi da quelli attuali che costeranno di più perché sicuramente costeranno di più e che avranno quindi bisogno di altri soldi ma se altri soldi riusciremo anche a trovarli e io ho grosse difficoltà a pensare dove li troveremo quei soldi che abbiamo che oggi non risparmiamo certo allunghiamo i tempi dopodiché la cassa depositi e prestiti dice che sostanzialmente c'è il bilanciamento comunque sul la chiamano non mi ricordo più il nome perché comunque c'è un bilanciamento non c'è una perdita anche se è chiaro che pagheremo di più con 8 anni di slittamento pagherai di più però il problema vero che è quei soldi che noi in qualche maniera sui primi 10 anni abbiamo a disposizione se non li dobbiamo utilizzare per difendere i servizi attuali e per cui per garantire alla nostra futura generazione non il fatto di avere dei debiti ma di avere dei servizi perché rischiamo di non avere più i servizi non solo i debiti ma di non avere più neanche i servizi quei soldi li potremmo utilizzare per andare a estinguere i mutui e questo vuol dire che era quello che questa amministrazione si era data come indicazione e che abbiamo attuato siamo riusciti a farlo purtroppo poco perché poi è successo quello che è successo ma se noi riusciamo a estinguere i mutui allora quegli 8 anni in più potrebbero anche non esserci o essere così ridotti come rata da non essere così incidenti oltretutto tenete conto che noi per 10 anni avremmo avuto una rata sul nostro bilancio di 700 mila euro cosa che è difficile reggere mentre invece oggi abbiamo rate da 450 mila che sul nostro bilancio che è quello attuale quello da 16-17 milioni è una rata che è reggibile questo ci permetterebbe di reggere e ci permetterebbe di riuscire a gestire ancora sostanzialmente i servizi non solo magari avere la capacità di dare ulteriori servizi considerato appunto il fatto che come dicevo prima che il 2020 il 2021 in particolare sarà un anno di transizione e sarà un anno pesante perché avremo una crisi economica che c'era già già dal 2008 che adesso con il coronavirus diventa ancora più grave e più importante quindi è chiaro nessuno di noi penso sia così assolutamente inconsciente da pensare che è giusto andare ad allungare i tempi sui mutui il problema vero è però che ti devi rendere conto di qual è la tua realtà e quindi se fai il conto con la tua realtà devi trovare una soluzione un compromesso che sia un compromesso accettabile che non carica il futuro di chissà quale macigno ma che ti dà la possibilità di arrivare al futuro e quindi avere la possibilità di transitare su un periodo che è un periodo estremamente difficoltoso e che è un periodo dove trovare finanziamenti non sarà così semplice perché tenete conto che questa crisi se la porti l'anno prossimo vuol dire meno entrate di IRPE di addizionale IRPE meno entrate di altre vuol dire che anche dal punto di vista di possibilità di opere di urbanizzazione e quindi di cantieri che partiranno non saranno così anche se avevamo appena fatto un PGT con alcune logiche di precise e quindi con alcune possibilità io credo che oggi invece il nostro problema è tutto quello che abbiamo possibile su cui ragionare e però con un compromesso certo è serio va accettato per questa ragione è stata proposta e io sono a questo punto favorevole a ricontrattare i mutui solo perché non c'è alternativa se ce ne fosse stata come se è stata fino a ieri i mutui sarebbero stati affrontati in maniera diversa quindi sono anche d'accordo che non vanno prolungati però ripeto guardiamo la realtà e non guardiamo solo teoricamente bisogna cercare da altre parti perché non è così perché o ci sono proposte oppure la realtà è quella grazie grazie a lei consigliere ai raghi passo la parola al sindaco voleva chiedere voleva chiesto la parola prima o sbaglio ho capito male prego sindaco ha lei la parola non si sente passiamo al prossimo intervento iori strano che risulta acceso il microfono si sentite si 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 sentiamo allora visto che il sindaco è muto passo la parola a Claudia Munero che mi aveva chiesto la parola si è grazie presidente io in parte alcune considerazioni che volevo fare le ha anche già anticipate il consigliere ai raghi comunque sostanzialmente gli elementi che vedono favorevolmente la rinegoziazione sono assolutamente quello che ci permette di abbassare quello che è attualmente la rata annua di rimborso e che ci permette quindi di renderla sostenibile rispetto a quello che è il nostro bilancio e di liberare risorse in questo momento soprattutto ma anche per gli anni dell'immediato futuro per quello che è sicuramente il fronteggiare la situazione attuale e probabilmente quella che ancora più seriamente ci troveremo ad affrontare di qui anche ad un anno perché ancora tante sono le incognite ancora tante sono gli interventi che probabilmente dovremo mettere in campo per permettere anche il mantenimento di servizi in maniera differente anche eventualmente adeguamento di alcune strutture se sarà necessario per permettere la ripresa delle scuole in modalità il più possibile in presenza o simili quindi ci sono ancora tanti elementi che ci fanno dire avere la possibilità di quello che è di fondi ci permette di far fronte quindi di liberare delle risorse e quindi effettivamente far fronte a quello che sono le necessità l'altra cosa che mi sembra assolutamente di dover sottolineare è che noi al momento come diceva anche il consigliere Raghi stiamo pagando dei mutui che hanno un tasso molto alto in questa maniera abbassiamo quello che è il costo comunque del mutuo anche se rimangono purtroppo ma non siamo noi a farle le condizioni ancora dei tassi al di sopra di quello che è il livello di mercato attuale ma perlomeno il livello si avvicina un pochino a quello che è il livello di mercato o comunque tende verso non è ancora in presenza di non è ancora a livelli di mercato l'altra è questo abbassamento non è da prendere comunque da considerare di poco conto perché comunque questo in una prospettiva in cui ci fosse anche una ben che minima ripresa di livelli di inflazione ci permetterebbe comunque in prospettiva di poter anche avere dei vantaggi in termini relativi rispetto a quella che è la possibilità di estinguere con delle penali minori i mutui in maniera anticipata che rimane comunque uno dei punti di cui questa amministrazione vuole farsi carico nella misura in punto in cui abbiamo la possibilità di farlo e questo perché questo perché le penali che mediamente vengono pagate e richieste per il pagamento per la riscossione dei mutui tengono conto di quello che è il differenziale dei tassi esistente fra i livelli di mercato e i livelli effettivamente che vengono riscossi sul mutuo se ci fosse l'avvicinamento di questo l'abbassamento di questo tasso congiuntamente a quello che può essere magari nel prossimo futuro o nell'immediato anche una ripresa dell'inflazione ci potrebbe rendere anche quindi economicamente più vantaggioso questi mutui come detto rimane un punto chiamiamolo una nostra punto fermo quello di cercare di andare a fare la rinegoziazione e l'estinzione anticipata dei mutui e ci rimangono aperte tutte quelle che sono le possibilità anche di una come dire di accedere a ulteriori diverse modalità di rinegoziazione per abbassare ancora i tassi dei mutui qualora ci fossero degli interventi anche a livello statale in questo senso quindi fatte tutte queste considerazioni e soprattutto la necessità di avere la disponibilità di risorse utilizzabili ora e nell'immediato e soprattutto l'abbassamento della rata che la rende economicamente sostenibile per quello che è il nostro bilancio e la possibilità quindi di continuare a garantire dei servizi che hanno caratterizzato questa questa quello che è l'attività della nostra dell'amministrazione in questi anni ci rendono assolutamente favorevoli all'intervento grazie grazie consigliere Munero passo la parola adesso al consigliere Crivellone come si sentiamo sindaco se vuole andare compiglio vai pure compiglio ok prego consigliere Crivellone sì grazie non ve lo più nessuno ma fa niente no io in gran parte di quello che volevo dire è stato già già sottolineato mi sembra che la decisione dell'amministrazione sia lungimirante rispetto ad una situazione che oggi non sappiamo non siamo ancora in grado di leggere completamente dal punto di vista dell'impatto economico che avrà sulla sulla popolazione sorprende un po' il fatto che le posizioni anche qui pur in una situazione che diciamo non è delle più normali si è influenzata dal posizionamento politico del momento cioè le stesse forze politiche che a livello nazionale vorrebbero stampare moneta e portare il debito non considerando il debito pubblico italiano quindi pompando soldi sull'economia in modo sproporzionato a Cornaredo si lamentano del fatto che comunque c'è una forma di indebitamento dei conti del comune che non è in realtà così ma è un dilazionamento del debito che si ha ecco io penso che veramente sul discorso di come ci ritroveremo nei prossimi mesi bisognerebbe fare una riflessione seria una riflessione seria che deriva dal fatto che ad esempio mi sembra che gli enti locali in questa fase siano un po' il punto debole in mezzo a delle forze che tendono ad essere predominanti rispetto alla gestione dei flussi finanziari e dei finanziamenti che arriveranno anche dall'Europa chi poi si troverà veramente ad affrontare perché tockerà con mano nel rapporto quotidiano con i cittadini le debolezze di una parte della popolazione saranno gli enti locali oggi si tende a livello nazionale a centralizzare anche i flussi di contributi che vengono dati alle popolazioni e vengono dimenticati quelli che sono gli agenti territoriali i servizi sociali dei vari comuni io più che una volontà io in questa operazione intravedo una necessità anche perché non ci sono alternative la necessità di non farsi trovare impreparati rispetto a quelle che possono essere le esigenze delle fasce più deboli mi sembra che le richieste che erano state fatte dei buoni spesa su Cornaredo non vorrei sbagliarmi ma si parlava di 700-800 richieste vuol dire che sono 700-800 richieste di famiglie siamo sul 10% non mi sembra un dato di poco conto e quindi queste cose bisogna un amministratore ne deve tenere conto e ripeto oggi noi non siamo in grado né di sapere qual è lo sviluppo sanitario della vicenda ma soprattutto non siamo in grado di comprendere ciò che troveremo a settembre ottobre novembre e sull'anno prossimo dal punto di vista dell'impatto economico che questa crisi avrà quindi io ho visto favorevolmente questa operazione fatta dall'amministrazione uno perché non ci sono alternative e l'altra perché l'esigenza è questa grazie consigliere Crivellone sono iscritti a parlare ancora consigliere Menegalli passiamo la parola a consigliere Menegalli sindaco no no aspetto 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 poi sindaco prego però sarò molto breve nel senso che riprendo proprio la coda dell'intervento che ha fatto il consigliere Crivellone che dice non ci sono alternative in realtà l'alternativa c'era quella di tagliare i servizi dal prossimo anno ma io non mi prenderò mai la responsabilità da sindaco di dire che tagliamo i servizi che hanno che sono il cuore pulsante della qualità della vita elevata che c'è nel nostro comune io capisco e credo che a nessuno dei consiglieri comunali faccia piacere questa sera nonostante cassa depositi prestiti certifici l'equivalenza finanziaria allungare i mutui credo che anzi sinceramente in una situazione diversa probabilmente avremmo trovato altre soluzioni lo diceva prima l'assessore Bono nella finanziaria 2020 si parla di ristrutturazione del debito dei comuni proprio per intervenire sui tassi di interesse che anche con questa rinegoziazione sono molto più alte rispetto a quelli che oggi il mercato propone quindi detto questo un'alternativa c'era ma l'abbiamo scartata perché quando si amministra si devono fare delle scelte anche complicate l'abbiamo fatto nella scorsa legislatura siamo pronti a farlo anche in questa legislatura e lo stiamo facendo con una scelta difficile in un momento di grandissima emergenza dove abbiamo messo sul piatto la conferma degli attuali servizi e delle attuali tariffe che abbiamo rivisto nei scorsi cinque anni abbassandoli di molto perché quando abbiamo rivisto le tariffe dei principali servizi scolastici degli scorsi cinque anni il saldo che ne derivava era un saldo negativo a gravare sul bilancio l'abbiamo fatto quando abbiamo implementato i servizi e abbiamo permesso di proseguire con dei servizi come ad esempio ne cito uno per tutti l'asilo unido comunale a San Pietro all'Ulmo l'abbiamo fatto abbiamo messo un peso forte sul bilancio per garantire alla nostra comunità alle nostre famiglie ai nostri cittadini di cui qualcuno dice ci dobbiamo preoccupare per il futuro di avere oggi quei servizi perché io vi seguo quando dite dobbiamo pensare alle future generazioni ma ci dobbiamo pensare nel futuro ma ci dobbiamo pensare oggi adesso e lo dico anche con riferimento all'indebitamento è chiaro che da sindaco non vi dirò mai che sono contento di avere dei muti da pagare ma comprendo che chi in passato ha fatto delle scelte le ha fatte nella maggior parte dei casi per garantire che io ragazzo di Cornaredo avessi una filanda all'interno della città che non cadeva a pezzi ma che è il fiore all'occhiello della cultura del nostro territorio un palazzetto dello sport in cui fare attività sportiva e tante tante altre opere che sono fondamentali proprio per le future generazioni di cui qualcuno dice di preoccuparsi è chiaro ed è vero lo abbiamo scritto anche nel programma elettorale noi che l'abbiamo scritto che ci impegneremo e l'abbiamo fatto anche nel 2019 per ridurre questi muti l'abbiamo fatto l'anno scorso lo faremo in futuro se ce ne sarà se ce ne sarà la possibilità ma oggi ci siamo provati di fronte a una scelta a una scelta che non è semplice ma una scelta che va nella direzione di confermare l'attuale livello dei servizi che vengono erogati sapendo che nei prossimi mesi noi avremo delle spese elevate da sostenere per garantire quegli stessi servizi penso soltanto come ho detto nel mio primo intervento ai centri estivi che sicuramente costeranno di più rispetto a quelli degli anni passati sicuramente costeranno di più ma lo facciamo e spenderemo delle risorse comunali proprio per garantire che i ragazzi che già sono stati a casa fino ad oggi e che saranno a casa fino a metà giugno non stiano a casa anche nei mesi estivi in cui invece erano abituati a fare altro saranno dei servizi ripensati saranno dei servizi che ci scosteranno di più ma io credo che dobbiamo tutti essere fieri e orgogliosi che la nostra amministrazione comunale non questa maggioranza la nostra amministrazione comunale l'amministrazione comunale di Cornaredo sarà capace di garantire dei servizi di qualità e lo farà grazie alle risorse di cui può disporre quindi benvenga in questo caso fare queste scelte nel 2017 la situazione era molto diversa anche quella del nostro bilancio e abbiamo fatto una scelta diversa di non rinegoziare mutui speriamo di poter ristrutturare il debito dei comuni nei tempi a venire però davvero oggi è una scelta complicata è una scelta che stanno facendo altri enti anche perché Regione Lombardia quando dice che investirà 3 miliardi in opere pubbliche nel 2020 e nel 2021 lo fa ricorrendo il debitamento mica risorse del proprio bilancio che è di 20 miliardi quindi come dire sono posizioni che in un momento di emergenza come quello che tutti stiamo vivendo tanti enti purtroppo devono ricorrere a chi il debitamento chi la rinegotazione dei mutui come noi stiamo facendo questa sera grazie sindaco passo la parola al consigliere Meregalli prego consigliere Meregalli grazie presidente direi che è stato detto moltissimo in merito a questa scelta che viene fatta da questa amministrazione chiaramente con molta attenzione e con una preoccupazione evidentemente che è stata motivata nei vari interventi stiamo sicuramente vivendo una situazione critica e gli enti locali sono i primi a notarla basta ad esempio vedere la revisione che è stata fatta recentemente sugli oneri che erano stati previsti se non sbaglio di un milione di euro nel 2020 ed è stato ricorretto a 600 mila euro vuol dire cioè che l'economia locale sta subendo in modo notevole l'effetto del coronavirus quindi immaginare una situazione che non è più quella di una volta è fondamentale pensate soltanto ai servizi scolastici oggi non sappiamo ancora come porteremo i nostri ragazzi a scuola ed è fondamentale che i ragazzi ritornino a scuola la didattica a distanza è stata un'emergenza ma non può essere sicuramente la soluzione ed è evidente che un intervento di questo genere costerà soldi alle amministrazioni comunali quindi prepararci in modo tale che ci sia in grado di intervenire in situazioni critiche è fondamentale oggi l'operazione questa detta avviene in una situazione di apuralizzazione finanziaria quindi il comune in questo momento sta spendendo gli stessi soldi che spenderebbe senza la rinegotazione dei mutui un altro dato importante è che 28 sono i mutui coinvolti la stragrande maggioranza di questi riguardano opere che dureranno nel tempo quindi aver prolungato di 8 anni l'ammortamento dei mutui non comporta da questo punto di vista dei costi in più per quanto riguarda la creazione di servizi noi trasferiamo chi verrà dopo dei costi ma trasferiamo anche dei servizi che funzioneranno quindi con molta attenzione e in una situazione chiaramente critica noi decidiamo di condividere questa scelta ripeto in altre situazioni avremmo ripensato a questa scelta ma oggi come per motivi sono stati più volte richiamati è una scelta che dobbiamo per forza fare grazie consigliere Meregalli vedo che non ci sono più richieste di intervento qualcun altro vuole intervenire no se non ci sono altri interventi direi che possiamo passare Marco Brianza Susanna si è prenotato Marco prego non l'avevo visto scusa non c'è problema grazie presidente sì soltanto poche parole molto è stato già anticipato dai miei colleghi parlo da dei numeri noi abbiamo sul nostro territorio oltre 650 richieste di buoni spesa in questo momento abbiamo in questo momento la possibilità di abbassare quella che ha rato dei nostri mutui nel breve periodo di 400 300 mila euro nei prossimi anni abbiamo una situazione legata all'emergenza covid che non può non essere tenuta di conto certo è stato già anticipato in precedenza a nessuno fa piacere andare a spostare la crocetta sul calendario che indicava la fine della restituzione dei mutui penso che nessuno l'avrebbe fatto in una situazione di normalità ma ahimè questa situazione legata da un'emergenza sanitaria prima e economica poi con cui dovremo stiamo e dovremo fare i conti non può non essere tenuta di conto noi abbiamo il dovere di supportare e sostenere le famiglie cornerilesi e gli esercizi commerciali noi non possiamo non dimenticarci dei servizi che offriamo oggi non possiamo non possiamo permetterci perché i servizi che offriamo oggi servono ai cittadini di oggi servono anche ai cittadini di domani per vivere in un paese migliore e crescere crescere in un paese che gli offra gli dia possibilità e che gli faccia appunto vivere in un paese pieno di servizi di strutture che anche all'esterno ci invidiano qualcuno ricorda la Finlanda il parazzetto dello sport che sono dei gioielli anche per chi vive nei paesi limitrofi e quindi noi non possiamo assolutamente dimenticarci di tutte quelle fragilità che oggi ci sono sul nostro territorio certo poi arriverà il momento di rifocalizzarci e pensare a estinguere anticipatamente i mutui questo è un obiettivo della nostra amministrazione l'abbiamo fatto in precedenza e deve continuare a essere un obiettivo tuttavia non ci si può permettere di avere perdonatemi le parole di salame davanti agli occhi perché la situazione è ben diversa da quella che a volte viene dipinta la situazione è grave ripeto prima è stata grave a livello sanitario ora è molto di più a livello economico e la nostra amministrazione ha il dovere di intervenire intervenire sostegno delle famiglie degli esercizi commerciali per offrire loro garantire loro servizi che permettano di vivere bene questo periodo per quello che è possibile e il futuro all'interno del nostro paese grazie presidente grazie lei consigliere Brianza ci sono Marco ok basta non ci sono altri interventi Marco Cardillo giusto sì presidente prego prego consigliere Cardillo io penso che l'intervento dei miei colleghi un'opposizione fosse più rivolta a una questione del tasso qua siamo tutti concordi su 17 componenti abbiamo oggi 16 che c'è la la Veronica di rinegoziare in muto l'unico penso è diciamo appunto la discordia è il tasso che verrà a crearsi più avanti mi fa piacere anche sentire determinate parole da parte dei componenti della maggioranza che poi le faccio anche mie che mi hanno portato a uscire dal Movimento 5 Stelle cioè l'incapacità politica di chi sta governando questo paese cioè il PD e il Movimento 5 Stelle è nella loro cecità di aver abbandonato completamente gli enti locali ho fatto delle rimostranze proprio a deputati i sottosegretari dicendo e difendendo anche il mio sindaco che non si ci si può abbandonare il sindaco ride ma è così io ovviamente ho litigato con un sottosegretario perché non si può abbandonare gli enti locali e dare la responsabilità agli enti locali e doversi occupare di cose della quale ovviamente non si ha risorse quindi ripeto secondo me mi fa piacere che finalmente anche localmente i componenti del PD locale iniziano a capire che dall'altro fondamentalmente non imprega praticamente niente di comune e dall'altra parte ripeto il dubbio cioè il dubbio è quello che tra rigolette penso a propensi pesare più è la questione dei tassi perché giustamente i tassi sono molto bassi ma comunque è stata fatta un'analisi più che altro immediato però i tassi sono molto alti oggi in un mercato dove i tassi praticamente sono allo zero quasi sicuramente è una cosa che lascio un po' così quindi vi ripeto faccio anche le dichiarazioni di voto che sarà comunque il contrario però fa piacere che vedo che anche localmente ci si accorge che si è abbandonati dagli enti che sono poi superiori cioè da la regione ma soprattutto dal governo centrale grazie consigliere Cardillo ci sono altri interventi mi pare di no bene allora direi che possiamo passare alla votazione del punto in questione il quinto adesione a proposta di rinegoziazione di mutui presso la cassa depositi e prestiti circolare numero 1300 del 23 aprile 2020 e passo la parola al nostro segretario per la risolta delle discussioni di voto prego segretario a lei d'accordo Sant'Agostino favorevole Merecandi favorevole Frianza favorevole Dametti favorevole Airaghi Elena favorevole Munero Claudia favorevole Crivellone favorevole Buongiorno Enzo Buongiorno Enzo ci sei? Non si sente Sotto in buonanotte Faccio segno con la mano Enzo non abbiamo sentito Si vede il segno della F Ha fatto il segno con la mano favorevole Ok Lisena Silvia Favorevole Perfetto Airaghi Renzo Favorevole Ok Daviani Renato Contrario Contrario Perfetto Gambini Cristian Contrario Ok Tiraboschi Renato Contrario Berbari Contrario Locati Rosalva Antonia Contrario Cardillo Marco Contrario Ok L'esito 10 A favore E 6 Contrari Presidente Le risulta Ok Perfetto Passiamo all'immediata esecutività Ok Sant'Agostino Favorevole Mere Galli Favorevole Brianza Favorevole Sametti Favorevole Airaghi Elena Favorevole Funero Claudia Favorevole Rivellone Pompilio Favorevole Favorevole Buongiorno Vincenzo Salvatore Favorevole Ok La volta l'anticipato Lisena Favorevole Ti sentite? Sì Airaghi Favorevole Ok Laviane Renato Contrario Cambini Cristian Contrario Tiraboschi Renato Contrario Contrario Berbari Saverio Contrario Locati Rosalba Contrario Ha detto Contrario Ripeto Sì Contrario Contrario Perfetto Cardillo Marco Contrario Contrario Esito Favorevole Così Approvato Il quinto punto All'ordine del giorno Passiamo al successivo punto Il punto numero 6 Esame ed approvazione Quarta variazione di bilancio di previsione 2020-2022 E aggiornamento del documento unico di programmazione 2020-2022 Passo la parola alla sessione Bono Prego Assessore Eccoci con la quarta variazione Come si diceva In sostanza questa variazione consistente prende tre filoni essenzialmente Si tratta di variazioni per il contrasto emergenza covid Delle variazioni che riguardano il mondo degli investimenti e delle altre variazioni più contenute Quindi se parliamo del primo filone covid In questa tutti gli interventi che fanno capo si può dire a questa voce Ammontano ad oltre 370.000 euro E prendono le mosse dall'avanzo disponibile del bilancio consumitivo 2019 per 225.000 euro Alcune delle economie da renegoziazione prestiti per 35.000 euro Dall'avanzo vincolato per le politiche abitative per 71.600 euro E dalle misure di solidarietà anche queste direzionate verso le politiche abitative per 12.500 euro E dà parte di quel contributo di capolding di cui si diceva prima per 39.500 euro Le risorse, tali risorse permettono attraverso questa variazione di attivare quali azioni concrete La prima, la più importante, è quella che riguarda la Tari per 200.000 euro E questo è il valore che abbiamo stimato possa essere necessario per ritassare le utenze non domestiche Per i mesi di effettiva chiusura Stesso ragionamento è stato effettuato per quanto riguarda la Tosap e la tassa sulla pubblicità La Tosap per 25.500 euro e la tassa sulla pubblicità per 35.600 euro Una caratteristica particolare della Tosap consiste anche nelle iniziative riportate nel decreto rilancio Italia Per cui anche su quel decreto sono previsti dei rimborsi tra virgolette agli enti locali Per l'esenzione nel periodo che decorre dal 1 maggio al 31 ottobre Quindi diciamo che allo Stato attuale abbiamo stimato l'importo di 25.500 euro Ma presumibilmente su questa tematica ci sarà anche un rimborso da parte dello Stato Poi attraverso questo primo filone di variazioni abbiamo inserito la previsione dell'anticipazione di cassa Quindi abbiamo stimato che per tre mesi potrebbero essere necessari circa 2 milioni di euro E quindi ne è stato calcolato il relativo onere finanziario che si aggirerebbe intorno ai 12.000 euro Questo è la convenzione con i tassi applicati appunto inseriti nella convenzione con tesoreria È vero anche che c'è stato un passaggio con i funzionari della tesoreria per chiedere l'applicazione di tassi di maggior favore Abbiamo già ricevuto un riscontro non positivo Anche se in quella missiva, in quella comunicazione l'ultima frase lascia addito ad una qualche possibilità Di rivedere comunque al termine dell'operazione e dell'eventualità di accedere all'anticipazione L'applicazione di un tasso inferiore a quello previsto appunto dalla convenzione stessa Sempre attraverso questa prima parte si è incrementato il monte buoni alimentari per 25.000 euro L'acquisto di dispositivi di protezione individuale per 3.000 euro E anche le spese, sempre quelle per alimenti verso persone fragili ma oggetto poi di successivo rimborso È stato incrementato di ulteriori 5.000 euro rispetto alle variazioni precedentemente effettuate Poi dicevamo c'è un secondo filone che è quello del mondo investimenti In questo blocco proprio di variazioni abbiamo tenuto in considerazione innanzitutto il contributo regionale che vale 700.000 euro Le risorse derivanti dalla rinegoziazione dei prestiti per 325.000 euro E quindi vi ricordo che sul fronte della parte corrente restano appostati 225.000 euro di oneri Poiché la previsione iniziale ammontava a 550.000 euro sul 2020 di applicazione di oneri Appunto sulla parte corrente e per il riequilibrio 225.000 euro che rimangono sulla parte corrente e che non rappresentano una stima Ma sono già ad oggi un dato certo perché sono risorse già accertate Poi abbiamo l'applicazione di avanzo vincolato e avanzo con destinazione per investimenti per complessivi 235.000 euro E poi come si diceva poco fa in questa variazione c'è stata la necessità anche di intervenire sul fronte degli oneri di urbanizzazione La cui stima nel bilancio di previsione ammontava appunto a un milione di euro Mentre allo stato attuale oggi gli uffici ci segnalano una diminuzione di questa stima, di questa previsione a 650.000 euro Quindi nelle variazioni in negativo voi avrete trovato nella documentazione un meno 350.000 euro Proprio perché deriva da questa revisione del monte O oneri sul 2020 A fronte di questi importi ci sono stati previsti interventi in termini di manutenzione del patrimonio Edilizia scolastica, impianti sportivi, manutenzione strade, verde, cimiteri, abbattimento barriere architettoniche, opere di culto Acquisto di un'auto per la polizia locale, mobili e arredi Nel dettaglio tutte queste voci sono state visionate anche nel corso della commissione 2 in particolare Poi dicevamo che esiste un terzo filone molto più contenuto e che riguarda interventi appunto minori ma comunque urgenti E quindi l'acquisto di automezzo per la polizia locale Quindi in parte spesato con la voce precedente e in parte con un'ulteriore appunto variazione La necessità di far fronte a spese legali per circa 22.000 euro La necessità di dare un incarico a RUP per quanto riguarda tutta l'attività legata a carbotermo E alla valutazione verifica dei consumi e dei rispettivi poi conguagli Acquisti di webcam, microfoni, hardware vario per gli uffici Una spesa necessaria per procedere con tutte quelle attività legate allo switch Al trasferimento sul nuovo sito appunto dei dati precedentemente contenuti In quello attualmente visibile e poi ad una rivisitazione di quello che invece sarà il sito nuovo E una spesa legata al sistema e all'infrastruttura VOIP Che è stata messa a dura prova nel periodo dell'emergenza Quella più pregnante, più forte Proprio perché il sistema è stato sovraccaricato nel suo utilizzo E in certi momenti non ha retto Quindi qualche intervento si è reso necessario È stato ripristinato in parte il fondo di riserva E è stato dato seguito all'acquisto E bisognerà dar seguito all'acquisto ai pacchetti office Grazie all'utilizzo del fondo innovazione comunale L'ultima voce credo che riguardi l'efficientamento energetico E quindi le pratiche per richiedere poi il compenso, il contributo E questa spesa ammonta a 3.000 euro Grazie Assessore Bono Passo la parola ai consiglieri per gli interventi Vedo che nessuno sulla chat ha chiesto la parola Posso? Non mi sono prenotato Prego consigliere D'Embali, prego 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 chiedere Di questi 700.000 euro Qual è la quota destinata un po' all'edilizia scolastica? Se devo parlare appunto che c'è una quota E quali sono i lavori che si intendono fare Sull'edilizia scolastica? Visto che ovviamente Vi ho sentito parlare E preoccupato di come Sarà un riendro di questi ragazzi Rientro certamente perché avrà bisogno di spazi Perché rientreranno a gruppi Le classi non è più possibile fare stare 20 ragazzi in 40 metri quadri Quindi bisogna creare delle strutture Bisogna ambriare gli spazi E quindi volevo appunto sapere questo Se c'è in futuro una programmazione Nella realizzazione di questi spazi Idonei ovviamente a far frequentare E quindi consentire ai ragazzi Di svolgere l'attività didattica Quindi proprio La mia domanda è mirata a sapere Un po' a conoscere Quali sono gli interventi Grazie Grazie a lei consigliere Berbari Rispondo io Prego Assessore Carroccia Sì buonasera Grazie presidente Allora gli interventi Io parlo Parlo degli interventi che abbiamo programmato Con le risorse di regione Lombardia E sono circa 200 mila euro E riguardano come avevamo già anticipato Ed è anche un lavoro che avevamo comunque Non intenzione ma necessità di fare Parlo delle due aule di sostegno In 4 novembre Perché come era già stato detto In precedenza a marzo Quando abbiamo presentato l'altro piano dei lavori C'è questa necessità che si è venuta a creare In 4 novembre Poi Gli altri due interventi che andremo a fare Riguardano Sistemazione dei bagni presso la Curiel E adeguamento Sistemazione dei pavimenti Sempre in 4 novembre Questi erano degli interventi che avevamo già programmato E quindi li portiamo avanti Poi abbiamo lasciato anche delle risorse Circa 20 mila euro sui oneri Per manutenzioni straordinarie Tra cui anche Magari la sistemazione Come stiamo già facendo Della palestra In muratori Che avevamo già cominciato A Natale E adesso proseguiremo con l'intervento Per quanto riguarda poi Il futuro Come si comincerà Come si entrerà a scuola Questo stiamo ancora aspettando Delle linee guida Comunque con l'assessore E Jacopo Perazzoli Ci stiamo già muovendo Però ecco Siamo ancora In attesa Di Delle linee guida Ecco Mi ripeto Grazie Assessore Carroccia Mi chiede la parola Sulla chat L'assessore Perazzoli Sì Buonasera a tutti Anche da parte mia Brevemente L'assessore Carroccia Ho già detto Quelli che sono i lavori In corso O comunque Che abbiamo programmato Per quest'anno A livello di manutenzione Quindi anche in parte Con quel fondo Che menzionava poco fa Il consigliere Verbari Di Regione Lombardia Per quanto riguarda Certo Il macro problema Della scuola Che appunto Menzionava il consigliere Verbari Che sa molto bene Diciamo che Come amministrazione Da un lato Aspettiamo Ma come tutti Il piano Le linee guida di governo Però ovviamente E questo è una sensibilità comune Credo di interpretare La maggioranza Non possiamo aspettare Le linee guida di governo Perché in qualche modo Qualche passo Dobbiamo immaginarcelo Perché come Il consigliere Verbari Menzionava Le aule da reperire Perché sappiamo tutti Quelli che sono I rapporti numerici O comunque Quelli che possiamo Ipotizzare Essere rapporti numerici Ebbene Posso assicurare Il consigliere Verbari Che stiamo lavorando Come maggioranza Per appunto Individuare nuovi spazi In più Perché poi Di questo stiamo Parlando Immaginandoci anche Vedremo se sarà possibile Ma strutture Non per forza Di cose comunali Quindi noi stiamo Lavorando Con gli oratori E in questi giorni Stiamo facendo Le prime perlustrazioni Per capire Come mette Come risolvere Questo tipo di problema Che ora Ricordo Dobbiamo affrontare In 448 Cioè Siamo al 28 maggio Ed è una cosa A cui dobbiamo Trovare soluzione Per l'anno 21 A partire dal 14 settembre O se non dal 1 settembre Quindi faccio presente Che i mesi Per affrontare questo Sono davvero pochi E come Non avendo ancora L'inneguida Però dobbiamo In qualche modo Inventarci qualcosa Cosa a cui stiamo Lavorando Come maggioranza Questo mi sento Di rassicurarlo Poi vediamo Ovviamente Quali saranno Gli sviluppi Complessivi Del piano nazionale Questo evidenza Grazie Grazie Assessore Perazzoli Ci sono altri interventi Da parte dei consiglieri Sindaco Prego A lei la parola Volevo dire una cosa Che si ricollegga Anche all'intervento Fatto prima Sulla rinegoziazione Sulla rinegoziazione De mutui L'assessore Caroccia Ha spiegato Anche in commissione Credo Con maggior divizie Di particolare Quali sono Gli interventi Gli interventi previsti Sicuramente L'ho già fatto Ma ci tengo a farlo Anche in consiglio comunale Ringraziamo Regione Lombardia Per questo Intervento Importantissimo Di 700 mila euro Equivalgono Più o meno A un piano Opere pubbliche Di un comune Delle nostre Un piano Opere pubbliche Annuale Di un comune Delle nostre dimensioni Quindi si parla Di risorse Importanti Che ci vengono Che ci vengono Date da Da regione Che vengono date A tutti i comuni Di regione Lombardia Proprio nell'ottica Che in un momento Come questo Anche fare debito Se si fa Per fare spese Di investimento In nostro caso Garantire servizi Ha un senso Infatti come diceva L'assessore L'assessore Vono Di queste variazioni I due principali filoni Non mi soffermo Sul terzo Riguardano proprio Il supporto Alle fragilità Che sono Emerse Da questa emergenza Per complessive 400 mila euro Di cui la metà Vanno sull'Atari Per non Per detassare I mesi In cui le attività Non domestiche Sono rimaste chiuse E ovviamente È un contributo Per le casse comunali Molto importante Perché parliamo Di 200 mila euro Quindi di Di tante Di tante risorse Messe a disposizione Ma sicuramente Corretto Le utenze non domestiche Poi usufruiranno Anche dell'esenzione TOSAP Per i mesi di chiusura E anche della tassa Sulla pubblicità Ma poi Come si diceva prima Una gran parte Delle risorse Che abbiamo dovuto Aggiungere A quelle fornite dal governo Hanno riguardato I buoni Spesa Dove abbiamo messo Più o meno Il doppio Delle risorse Che il governo Ha reso disponibile Proprio perché Le domande Che sono arrivate Sono poco meno Di 650 Ne sono arrivate 700 Ma non tutti Avevano i requisiti Per essere beneficiari Quindi Le due attività Principali Per affrontare Quest'emergenza Sono da un lato Una prima risposta Alle sofferenze Di chi è in difficoltà In questo momento Cito anche Il bando sostegno Affitti Per cui Il comune di Cornaredo Ha stanziato 71 mila euro Anche qui Non sono risorse Minimali Ma poi anche Dall'altro Innescare Attraverso Interventi pubblici Un po' che ci portiamo Dal fondo plurinale Vincolato Perché ci portiamo Un piano strada E anche gli interventi Sulla piscina Interventi complessivi Per circa 700 mila euro Dall'altro Le quote di avanzo Che sono vincolate Agli investimenti Quindi Le barriere Architettoniche Invece una parte Non vincolata Sempre sugli investimenti Per circa 200 mila euro E un altro intervento Che invece È di 700 mila euro Grazie A Il contributo Di regione Ricordo Perché Non sempre Non sempre si ricorda Che gli interventi Previsti Con le risorse Di regione Lombardia Sono ad attivare Quindi devono partire I lavori Entro il 31 ottobre Quindi è chiaro Che anche le scelte Che abbiamo fatto Sui lavori Hanno Come dire Avuto come vincolo Questo Quindi Il fatto Di non poter Progettare Nel Nel medio periodo Purtroppo Alcuni interventi Che sarebbero Stati necessari Speriamo Ovviamente L'abbiamo chiesto Anche come ANCI Che anche il prossimo anno Ciò che rimane Dei 3 miliardi Di messi a disposizione Per gli enti locali Sempre 400 milioni Andrebbe benissimo Vengano ridestinate Agli investimenti Agli investimenti Di comuni In questo modo Noi attiviamo Nel 2020 Sicuramente Qualche opera Andrà Anche sul 2021 Un milione 800 mila euro Di investimenti In opere pubbliche Credo che sia Un'ottima risposta Anche in termini Di risorse Stanziate Per un ente locale Delle nostre dimensioni Per cercare Di fare la propria parte Per innescare Meccanismi Virtuosi E cicli economici Virtuosi Per provare Con tanta fatica A mantenere Comunque Lavoro Anche sul nostro territorio Legato Alle opere pubbliche Della pubblica Amministrazione Grazie sindaco Non ci sono Altri interventi Direi che possiamo Passare Alla votazione Del punto Anche questo punto Avrà L'immediata Esecutività Scusa Solo una Mi pare Non era previsto Un intervento In merito All'articolo 73 No Carlo Quello è il tuo E che non lo stiamo Votando ora Hai ragione Perfetto Perfetto Va bene Siamo alla votazione Presidente Andiamo con la votazione Sì sì Prego Ok Sant'Agostino Stefano Iuri Favorevole Meregalli Favorevole Favorevole Brianza Favorevole Dametti Favorevole Airaghi Elena Favorevole Bunero Favorevole Crivellone Favorevole 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 Buongiorno 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 Ha dei problemi con l'audio Catatonico Catatonico Sì Sì Proprio Può chiamarlo Lo sento telefonicamente Ma lui ha il telefonino Mi sa Ok Io passo avanti Allora Ok Ventilmente provi a contattarmi Lisena Favorevole Perfetto Airaghi Renzo Favorevole Favorevole Gambini Cristian Contrario Tirabosco Renato Contrario Perfetto Verbari Contrario Ok Locati Contrario Perfetto Cardillo Contrario Ok Ritorniamo A Buongiorno Buongiorno Non risponde Buongiorno Alla segreteria Telefonica È una certa età Allora Vediamo Un po' Vediamo Un po' È proprio uscito? Sì Non lo vedo più Secondo me Ha provato a uscire E rientrare Le relazioni Mi sto chiamando Su Whatsapp Non risponde È proprio uscito Non c'è Se ne aiuto Anche col telefonino Non c'è verso Ok È scaricata La batteria Ecco che è arrivato Vediamo No io non lo vedo C'è detto che è arrivato È comparsa un messaggio È arrivato È comparsa Vicona Vibì Sentite adesso? Sì Sì Tu ci sentite? Sì sì Aspettiamo la sua dichiarazione Di voto Favorevole Contrario Astenuto Mi sentite? Sì Sì Sei favorevole Contrario Astenuto Favorevole Perfetto Allora L'esito È Perfetto L'esito è Dieci favorevoli Sei contrari Perfetto Passiamo all'immediato Esecutività Ok Sant'Agostino Favorevole Meregalli Favorevole Crianza Favorevole Rametti Favorevole Ai raggi Elena Favorevole Unero Favorevole Crivellone Favorevole Buongiorno Favorevole Favorevole Ok Ai raggi Renzo Ai raggi Renzo Favorevole Favorevole Laviani Renato Contrario Gambini Gambini Cristian Contrario Poschi Renato Contrario Verba Risaverio Contrario Locati Contrario Contrario Cardillo Marco Contrario Ok L'esito è 10 A favore 6 Contrari Per l'immediato esecutività Prego Presidente Grazie Segretario Bene Per 10 voti favorevoli E 6 Contrari Anche Per l'immediato esecutività Il sesto punto All'ordine del giorno Esame Approvazione Quarta variazione del bilancio di previsione 2020-2022 e aggiornamento del documento unico di programmazione DUP 2020-2022 è approvato E ora passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno il punto numero 7 Approvazione e modifiche al testo unico delle entrate comunali DUEC Passo la parola all'assessore Bono Prego Assessore Eccomi Solo un attimo Ok Allora Le modifiche apportate all'AltUEC prendono le mosse in larga misura da quanto contenuto in tema di principali novità nella legge di bilancio 2020 la 160 del 2019 e poi a misure ad hoc per contrastare l'emergenza covid-19 in particolare che cosa che cosa consistono tali modifiche innanzitutto nel nuovo accertamento tributario e patrimoniale dal primo gennaio del 2020 viene esteso l'accertamento esecutivo l'avviso di accertamento è già in sé esecutivo in caso di mancato pagamento quindi nel caso appunto di non ottemperanza non si dovrà procedere a quello step intermedio che è l'ingiunzione e di fatto si accorciano quindi i tempi per le procedure di riscossione al momento però la legge esclude da questa nuova modalità le sanzioni a codice della strada abbiamo poi una parte riguardante la riscossione coattiva delle entrate comunali e in questo caso gli interessi moratori sono stati evidenziati al tasso legale più due punti percentuali appunto facendo riferimento a quanto funziona nella legge di bilancio i posti di elaborazione notifica anche in questo caso sono state dettate delle norme uniformi e quindi è stata introdotta l'applicazione del 3% sulle somme dovute se il pagamento avviene entro i 30 giorni e con un tetto massimo di 300 euro oppure del 6% se tale pagamento avviene in un termine maggiore in 60 giorni con un tetto massimo di 600 euro è stata poi introdotta una scalettatura di dettaglio per importi e lunghezza del rientro e anche in questo caso seguendo poi le indicazioni fornite da IFEL e a seguito di lettura e interpretazione della legge citata sono stati introdotti ulteriori adempimenti per quanto concerne persone fisiche e giuridiche in tema di dichiarazioni sostitutive condizioni lavorative composizione del nucleo familiare affinché ci fosse ci sia una valutazione a tutto tondo di quella che è la condizione del soggetto per il quale si sta procedendo a riscossione equattiva o a pianificazione e come dire concessione di piani di rientro è stato inserito sono state inserite tutte quelle modifiche che riguardano la supressione della della IUC e sono stati inseriti i termini di slittamento e lo slittamento scusate dei termini per quanto riguarda il versamento dell'IMU e con poi una peculiarità per quanto riguarda le specifiche sui fabbricati di tipo di abbiamo poi delle variazioni riguardanti le abitazioni tenute a disposizione laddove ad esempio il proprietario sia ricoverato e abbia spostato la propria residenza presso le case di una casa di riposo e l'esenzione è stata rivista introducendo delle ulteriori casistiche e anche in questo caso si è resa più uniforme omogenea tutta la materia abbiamo già ricordato che è stata suppressa la Tasi quindi tutte quelle parti presenti nel TUEC sono state ovviamente depennate e per quanto concerne la Tari è stata rivista la tassazione dei locali vuoti sono state specificate meglio le condizioni di stacca utenza e ad esempio è stato specificato quello che è il trattamento o l'utenzione laddove invece le utenze vengano mantenute con delle specificità per esempio per continuare a tenere attivo un impianto di allarme o un impianto di antincendio si è specificata una parte relativa alla detassazione per le associazioni sempre in ambito Tari così come la questione delle pertinenze meglio dettagliando cosa succede alla parte fissa e alla parte variabile nel caso in cui ci sono un numero di pertinenze minori o maggiori di tre le proroghe delle scadenze per l'emergenza covid trovano esplicitazione nell'ultimissima parte del TUEC come appunto un ultimo se non ricordo male articolo comunque in fondo e poi c'è una questione che riguarda le aree fabbricabili imponibili ovvero la parte in cui noi sappiamo che il consiglio comunale approva i valori minimi delle aree nella nuova formulazione del TUEC viene introdotta l'eccezione che tiene conto del valore superiore eventualmente contenuto in atto pubblico e viene proposta anche la modifica nel trattamento delle aree a giardino con una potenzialità edificatoria e un trattamento differente nel caso in cui diventino pertinenza dell'abitazione laddove vengano accatastate insieme all'abitazione stessa in questo caso si tratta di una norma appunto contenuta anche questa all'interno della legge di bilancio per il 2020 una norma che prevede questo tipo di trattamento a partire dal primo di gennaio 2020 e il contenuto della modifica che è stata portata al TUEC prevede che le eventuali modifiche e gli accatastamenti che si rendessero necessarie ad opera dei contribuenti viene data la possibilità dell'effettuazione entro il 30 novembre senza quindi applicazione di alcuna sanzione per il tempo intercorrente tra il primo di gennaio e appunto la data del 30 novembre ricordo solamente che i regolamenti come questo non istituiscono nessuna nuova imposizione verso i cittadini ma ne regolano appunto la applicazione e la modalità migliore per venire incontro agli stessi in questo caso l'ipotesi l'idea è appunto di avere 11 mesi di tempo per poter regolarizzare la propria condizione e scegliere da parte del cittadino se rendere esente quel terreno attraverso appunto tutta una serie di operazioni effettuare delle verifiche o invece assoggettare a DIMU con un trattamento per i terreni agricoli o per i terreni appunto edificabili questo è l'impianto delle modifiche è nata l'esigenza di approfondire ulteriormente questo punto ma su questo lascerei la parola al sindaco grazie assessore Bono ci sono degli interventi passiamo direttamente la parola al sindaco prego sindaco come come diceva l'assessore Bono è già emersa in sede di commissione secondo me la necessità di fare un approfondimento su una parte dell'articolo 73 che è una modifica rispetto al vecchio articolo 69 del testo unico delle entrate comunali questo non tanto perché come amministrazione comunale abbiamo il potere di eroga dalle normative nazionali ma perché credo che se inseriamo giustamente la normativa nazionale all'interno di un regolamento che comunque rimane un regolamento comunale credo che prima vada stata chiarezza su quali sono le ricadute e quali possono essere le ricadute anche per gli utenti che vengono coinvolti da questo nuovo articolato quindi vorrei proporre un emendamento al consiglio comunale che è molto semplice e prevede lo stralcio del paragrafo dell'articolo 73 che comincia con tenuto conto della situazione emergenziale e termina con entro il termine fissato per il pagamento del saldo dell'imposta tengo a precisare che comunque entro la fine del mese di giugno del 2020 quindi in un periodo molto breve dovrà essere diciamo completato questo approfondimento perché se necessario si dovrà tornare in consiglio comunale per fare questa modifica al turco l'emendamento si rende necessario più del rinvio complessivo del punto proprio perché come hai detto prima dall'assessore all'interno di questo regolamento del testo unico sono presenti delle tassazioni importanti per le utenze non domestiche in primis che credo stiano a cuore a tutto il consiglio comunale grazie sindaco passo la parola ai consiglieri per i loro interventi in relazione anche a quello che ha appena detto il sindaco appunto dello stralcio dell'articolo 73 mi pare che sia l'ultimo capoverso mi fa segno della richiesta di parola penultimo vero? penso la parola consigliere Gambini mi pare che chieda la parola prego consigliere semplicemente per fare un ulteriore riassunto di cosa dice bene l'emendamento perché in questa situazione di videoconferenza non è molto semplice certo non ho capito male ci rivediamo e viene stralciato l'articolo e comunque le verifiche saranno fatte non l'articolo un paragrafo dell'articolo quello che modifica il vecchio articolo 69 che invece poi rimane praticamente identico praticamente non del tutto ma identico rispetto a quello precedente quindi il paragrafo dove viene introdotta questa normativa derivante dalla finanziaria quindi la parte tenuto conto della situazione emergenziale che ha caratterizzato i primi mesi dell'anno 2020 in serie di prima applicazione delle nuove disposizioni introdotte a decorrere dal primo gennaio dell'articolo 1 comma 743 lettera A della legge 160 2019 in merito alla definizione di area pertinenziale fabbricato i proprietari fabbricati con aree anneste separatamente accatastate potranno procedere entro il 30 novembre 2020 ad accorparle catastalmente all'immobile principale provvedendo a versare a saldo senza sanzioni interessi l'eventuale maggiore IMU dovuta per l'anno 2020 a seguito dell'aumento della renta del fabbricato che in questo caso sarà considerata valida dal primo gennaio 2020 nel caso in cui entro il 30 novembre la variazione catastale indicata non fosse stata effettuata l'inno autonomamente dovuta per l'anno 2020 sulle aree in questione dovrà essere versata senza sanzioni interessi entro il termine fissato per il pagamento del saldo dell'imposta quindi unicamente in realtà è molto lungo ma ha questo paragrafo perché io credo che sia obiettivo di tutti ovviamente quello non di non agevolare l'utente in questo caso visto che già nell'articolato attuale è consentito procedere entro il 30 novembre senza nessun tipo di distanzione ma quello di valutare qual è l'impatto e quali sono le modalità anche tramite le quali l'amministrazione comunale può informare adeguatamente l'utente anche se in teoria non sarebbe tenuto a farlo perché come c'è scritto nel paragrafo l'INMU è autonomamente dovuta ma per trovare invece anche i canali corretti per informare di questa modifica che non è come dire tecnicamente così semplice e avvicinabile per tutti gli utenti che possono essere coinvolti ma le verifiche saranno fatte entro quando? lo riporteremo sicuramente il tuo complessivo con questa modifica entro il 30 giugno 2020 quindi entro un mese da oggi grazie sindaco grazie consigliere Gambini consigliere Belegati sì sì apprezzo molto questa sensibilità dimostrata perché questa novità introdotta da leggi finanziarie novità per la realtà di Cornarede evidentemente potrebbe avere un impatto significativo su realtà che oggi sono coinvolte per quanto riguarda il pagamento dell'Imu quindi è un approfondimento doveroso anche per trovare gli strumenti migliori per comunicare ma anche per tentare di risolvere dei problemi che in certe situazioni potrebbero generarsi quindi benvenga questa questa riflessione ulteriore perché l'impatto è significativo su realtà del nostro paese grazie consigliere Meregalli altri interventi non mi pare che ce ne siano altri per cui direi che possiamo porre in votazione però prima volevo epilogare quella che è la modifica specificare che in pratica adesso andremo a votare il TUEC il punto 7 all'ordine del giorno verrà stralciato il penultimo capoverso dell'articolo 73 che era il precedente 69 del vecchio testo e in pratica vengono stralciate le parole da tenuto conto fino all'imposta per il pagamento del saldo dell'imposta va bene per cui questo è il tratto che viene stralciato e che sul testo che è agli atti è totalmente colorato in giallo appunto dell'ex articolo 69 che diventa il 73 allora se non ci sono altri interventi porrei in votazione il punto per il segretario noi votiamo l'emendamento prima e il tuo che dopo o il tuo che è già modificato forse va votato l'emendamento non lo so però quello che dice il segretario è legge il regolamento prevede che vada votato prima l'emendamento se fosse una semplice delibera si voterebbe una sola volta il testo della delibera modificato trattandosi di un regolamento si vota prima l'emendamento in questo caso una sorta di emendamento che elimina 10 righe quella comma che lei ha letto per intero che rimane registrato pertanto prima si vota quello e poi il regolamento che risulta così modificato se volete siccome io ce l'ho in whatsapp se volete per comodità posso girarlo il capigruppo immediatamente così loro vedono e poi votiamo l'emendamento così prendono visione adesso in tempo reale di quello che è lo straccio che viene effettuato come volete sennò trovate nel testo dei documenti va di presidente ve lo mando allora un attimo scusate voi capigruppo lo girerete ai vostri a tutti i consiglieri riuscite a vedere ecco ve lo sto girando perfetto segretario almeno io lo vedo il testo ok comunque l'ho girato ai capigruppo adesso ma io adesso ho cercato di condividere lo schermo riuscite a vederlo si per vederlo si vede allora è questa parte tenuto conto tenuto conto eccolo qua tenuto conto della situazione emergenziale che ha caratterizzato è la parte che ha letto il sindaco fino a adesso scendo col cursore fino a imposta questa è la parte che viene levata stralciata quindi con la prima votazione si elide questa parte dall'articolo 73 con la seconda votazione si vota il regolamento senza questa parte ok ok perfetto bene adesso ritorniamo 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 grazie a tutti ok bene allora è stato diciamo descritto ampiamente il testo che verrà stracciato al capigruppo ho inviato via whatsapp comunque il testo che verrà stracciato il tratto di testo che verrà stracciato dell'articolo 73 e per cui direi che possiamo porre in votazione l'emendamento cioè questa modifica, questo straccio all'articolo 73 e raccogliamo a questo punto il voto dei consiglieri passo la parola a lei segretario per l'approvazione dell'emendamento a contatto a UEF ok ok quindi Sant'Agostino favorevole Meregalli favorevole Fianza favorevole Favorevole Dametti favorevole Airaghi Elena favorevole Munero favorevole Crivellone favorevole buongiorno favorevole favorevole Lisena favorevole favorevole Airaghi Renzo favorevole Aviani Renato Contrario Gambini Christian astenuto Tiraboschi Renato astenuto Per Barisaverio astenuto Blocchiati Rosalba astenuto Cardillo Marco Cardillo ecco preferisco non partecipare alla votazione non partecipi al voto no non partecipare al voto è anomalo uguale esco dall'aula la diamo per uscita dai ok è doveroso non facciamo la mano riesce a complicare anche le cose semplici eccolo qua sempre va bene comunque sono dieci voti favorevoli uno contrario e quattro astenuti giusto? sì è un fuoriuscito è un fuoriuscito è un non partecipante va benissimo ok presidente prima prima di passare alla votazione del del tuo modificato volevo dare lettura delle ultime appunto modifiche relative all'emergenza covid a beneficio anche di chi dovesse ascoltare in questo momento e in questa parte sono stati inseriti la proroga del versamento dell'acconto della nuova IMU che ordinariamente è prevista tra l'1 giugno e il 16 giugno e viene spostata nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 30 settembre senza applicazione di stanzioni o interessi fermo restando in ogni caso la possibilità di effettuare il pagamento anche a decorrere dal primo di giugno la proroga al 31 luglio del termine per il versamento della prima o unica rata della TOSAP e dell'imposta di pubblicità e vengono fissate le scadenze delle rate successive al 30 settembre al 30 novembre e al 16 dicembre la proroga del termine di versamento della prima rata della Tari e del conguaglio Tari 2019 al 30 settembre 2020 e la seconda rata al 16 dicembre la detassazione completa dicevamo per della Tari 2020 nei confronti delle utenze non domestiche per il numero di mesi in cui le stesse hanno dovuto chiudere l'attività in relazione all'emergenza Covid e sempre tenuto conto di quelle che saranno le indicazioni di Arera la conferma dell'esenzione completa Tari per quelle utenze domestiche con indicatore ISE così come già ottenuto in precedenti provvedimenti anche questo in raccordo con i pronunciamenti di Arera la detassazione completa dall'imposta della pubblicità e della TOSAP 2020 sempre verso le attività produttive commerciali per il numero di mesi in cui le stesse hanno dovuto chiudere l'attività in relazione all'emergenza in questo periodo è stata sospesa l'emissione dei nuovi avvisi di accertamento tributari fino alla data del 30 settembre come vi dicevo gli uffici ovviamente nelle loro attività di verifica di controllo stanno comunque proseguendo la loro attività nella riscossione delle entrate comunali abbiamo inserito l'assenzione dall'adozione di qualsiasi tipo di provvedimento per eventuali mancati pagamenti di rate incluse nei piani di rientro da debiti nei confronti dell'ente aventi la scadenza compresa nel periodo che va dal 9 marzo e il 29 giugno le rate scadute non onorate potranno essere pagate successivamente a questo ultimo termine al 29 giugno senza che si possa incorrere in ulteriori penalizzazioni o sanzioni il posticipo al 30 giugno di ogni scadenza di pagamento prevista dagli avvisi di accertamento di provvedimenti di riscossione coattiva che siano intervenuti nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 29 giugno la sospensione di ogni attività di notifica di provvedimenti a recupero coattivo delle entrate comunali fino a tutto il 15 giugno ovviamente vengono in applicazione le eventuali disposizioni normative nazionali e regionali aggiuntive o sostitutive che dovessero essere emanate o che siano state emanate quindi questo per rappresentare lo sforzo che questa amministrazione per questa emergenza ha fatto nei confronti di diverse fasce della popolazione andando ad impegnarsi anche in termini di flussi di cassa e quindi finanziariamente nei prossimi mesi microfono presidente microfono mi sentite adesso sì adesso sì volevo ringraziare l'assessore Bono e se ci sono interventi a questo punto dei consiglieri prima di andare a specificare l'esito della votazione dell'emendamento no non ci sono interventi per cui do esattamente l'esito della votazione dell'emendamento che a parte tutti i favorevoli consigliere Laviani contrario consiglieri Gambini Tiragosti Verbali Elocati astenuti e consigliere Carvillo non ha partecipato al voto totale 16 votanti per cui l'emendamento per 10 voti favorevoli un contrario 4 astenuti e un non partecipante è approvato se siete d'accordo passerei alla votazione del punto all'ordine del giorno il settimo punto approvazione modifiche al testo unico delle entrate comunali TUEC e passo la parola al segretario per la raccolta delle espressioni di voto anche in questo caso ci sarà l'immediata esecutività bene passiamo allora la votazione Sant'Agostino favorevole consigliere Crivellone c'è qualche rumore di sottofondo teniamo i microfoni Mere Galli favorevole Brianza favorevole Sametti favorevole Airaghi Elena favorevole Munero favorevole Crivellone favorevole buongiorno dov'è buongiorno oh mamma non c'è più ci sente consigliere buongiorno ci sente favorevole perfetto Visena favorevole Airaghi Renzo io sento favorevole favorevole perfetto Laviani Renato contrario ok Gambini Cristian contrario Tiraboschi contrario Berbari Contrario Locati Contrario Cardillo Contrario l'esito della votazione vede dieci voti a favore e sei contrari ok presidente d'accordo va bene ok ci accontentiamo del labiale non si sente non si sente il microfono adesso mi sente e va bene dieci favorevoli sei contrari benissimo passiamo all'immediata esecutività d'accordo Sant'Agostino favorevole Pere Galli favorevole Pianza favorevole Dametti favorevole Airaghi Elena favorevole Unero Claudia favorevole Crivellone favorevole 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 buongiorno ci sente? buongiorno ci sente? Enzo disperso disperso se ci sente può fare segno con la mano anche alzi la mano Enzo alza la mano ok perfetto Lisena favorevole Airaghi Renzo favorevole Flaviane Renato contrario Gambini Cristian contrario Grabozchi Renato contrario Verbari contrario Locati contrario l'esito l'esito è 10 favorevoli e 6 contrari prego presidente grazie segretario bene allora tutte e due le votazioni sia per il voto normale che quello per l'immediata esecutività sono 10 voti a favore e 6 contrari e con questo è approvato il settimo punto e ultimo all'ordine del giorno approvazione e modifiche al testo unico delle entrate comunali e con questo abbiamo esaurito tutti i punti imposti all'ordine del giorno quindi possiamo spegnere la registrazione sì dichiaro chiuso il consiglio comunale non si sta più registrando la conferenza ok ringraziamo anche il CED se ci sta ascoltando Marco spero di no per lui no bene io ringrazio tutti ok bene vi auguro buonanotte arrivederci salutiamo buonanotte arrivederci buonanotte ciao a tutti il consiglio comunale buonanotte grazie buonanotte arrivederci ciao buonanotte 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 Allora, termina per qui. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!